Vai quando vuoi, ciac. Sì, si è sentito quello che hai detto. Ah, dal ciac in poi o dal quello qui no? Dal vai quando vuoi. Ah, perfetto, ciao a tutti, a tutte. Oggi sto cercando di essere... Non so neanche quale termine da utilizzare. Volevo dire più moderno, però non so se è il termine corretto. No, mio Dio. Questa sessione inizia già con le giuste premesse. Nessuno vuole bassa come alleato. Siete ancora in tempo per cambiare video. Nessuno vi ha costretto. Cioè, no, può essere che qualcuno in realtà vi abbia costretto a vedere questo video. In tal caso, cambiate amicizie probabilmente. Tranne tu penati che stai facendo l'editing futuro di questo video. Tu non cambiare amicizie, se no avrai un amico in meno. E già ne ho pochi. Io non faccio editing, metto i timestamp. E ne ho messi 42 nella scorsa sessione. Sì, è chiaro il fatto che usa termini spagliati sempre. Tra l'altro ho messo 42 timestamp nella scorsa sessione. Ci rendiamo conto? Cambiamo scena ogni tre minuti. Perfetto, cambiamo scena, quindi. Di solito le sessioni, quando metto i timestamp, guardo a 1.5 di velocità. Non potevo la scorsa volta. Ho dovuto guardare tutto da inizio a fine perché altrimenti non capivo quando avremmo cambiato scena. Ah, questo era il mio piano malefico. Scene brevi ma molto significative. Io poi cambio scena, quindi. No, prendiamocela con calma in realtà perché non ho granché da farvi fare. Recap di che cosa avete fatto l'altra volta. Avete con successo scoperto il modo corretto, ovvero l'unico modo che avevo preventivato in cui entrare nel secondo piano. E dopo una breve nuotata in un acquario, siete riusciti ad accedere al secondo piano, dove avete riattivato la corrente, accompagnati dal... Chi eravete accompagnati? Dal professor... C'era il professor Ryan con voi? C'erano i due professori che non erano morti, penso. No, non i due professori, il professor Ryan è vecchio, c'era la professoressa, Adele e Jesse Pinkman, penso. Eh, è ok, è vero, c'erano i due membri dello staff, c'erano Jesse e Adele, non c'erano i professori, c'era Marid, c'era Leona, che erano i due della squadra di Numoto. Io mi ero trasformato nel professore di francese. È ancora un cadavere, Nicole è ancora una vedova disperata, Rodney è Rodney, Julie era giù con voi, Christopher era giù con voi, Albert era a rompere i coglioni a Tabitha, presumo, Marcos, ah, Marcos l'ho confuso con Rodney, anche lui però era da qualche parte, che voi non sapete. Ehm, Tabitha era a piangere, e April stava mangiando quella porca. Ehm, stava mangiando di fianco a un cadavere, esatto. Ehm, mentre i professori erano impegnati a farsi rapire, a quanto pare, perché infatti, una volta reattivata la luce al secondo piano, e aver attivato l'ascensore per salire di nuovo su di sopra, vi è corso incontro il professor Ryan, ehm, in preda al panico, visto che non troveva il professor Davette, chiedendo di fare un appello, prima di accorgersi che in realtà il professor Davette era con voi. Anche se quel professor Davette era interpretato da uno di voi, Ad. Quindi alla fine c'è stato comunque un appello in Aula Magna, eh, in cui il professor Davette è sparito di nuovo. E vi siete messi a cercarlo, eh, e se non sbaglio... E abbiamo trovato usciti sangue nel bagno, tipo Marcos l'aveva trovato. Eh, non mi ricordo se era Marcos Rodney, facciamo che era Marcos. Aveva trovato delle macchie di sangue in bagno, e una scappa. Mi sembra un buon recap di cosa è successo l'altra volta. Allora, due cose. Una, che ho notato mettendo i timestamp, e li ho scritto anche su Telegram, mi sono reso conto che l'ultima volta che abbiamo visto il professore di francese è stato quando Magnus è andato con Leona alla sua stanza. E se non sbaglio aveva detto che stava andando in bagno, tra l'altro. Quindi è morto subito dopo. Esatto. Ovviamente questo non lo sapremo finché Magnus non ce lo dirà, e praticamente diamo per scontato che ce lo dirà perché Ema non lo farà senza prompt da parte nostra, quindi facciamo un metagame esploratamente. Seconda cosa, rivolta invece a Bassa, che avrei dovuto dirti probabilmente, mentre non stavamo registrando, e mi sento un po' stronza a dirti adesso mentre le telecamere girano, però è così che funziona il mondo, e ormai mi sono fatto una reputazione su questo canale. Ma da quando fai avendo per le cose? Prima hai citato ancora una volta il fatto che ci hai dovuto dire l'unico modo per raggiungere il secondo piano, e in precedenza ci hai detto che appunto dovevi scrivere un sacco di cose per questa avventura, eccetera. E questo è un problema che avevo notato già nella tua prima campagna di Deadly Academy, che tu scrivi troppo per cuori di mostro. Cuori di mostro non è fatto per essere scritto, devi improvvisarlo. Cioè tutta la roba della fish tank, dell'acquario, l'avremmo potuto evitare se avessi improvvisato qualcosa per l'ascensore. Ma in Deadly Academy mi sono sentito in colpa perché non avevo scritto abbastanza dell'ambientazione, quindi non sapevo dove mandarvi, non sapevo bene cosa c'era a scuola, quindi poi ho fatto delle piantine vere e proprie di come sono fatti i piani. Sì, in Deadly Academy tu avevi dei punti fissi che però dovevo amazzeccare per forza, perché altrimenti non avremmo risolto un cazzo, e quindi invece avevo fatto una mappa per mandarvi in giro. Però è vero anche che non ho messo nessuna scea di monete per indicarvi una effettiva strada. Sì, e... Quindi alla fine semplicemente mi sono accorto che stavamo facendo tardi e vi ho... Sì, no. Il punto è appunto devi fare attenzione perché in cuori di mostro devi più reagire a quello che decidiamo di fare noi, che avere... cioè quello che tu hai fatto per questa campagna mi sembra quello che io ho fatto per Waffe & Glory fino ad ora. Il problema è che Waffe & Glory è un gioco incredibilmente più complesso. Ricordati però, Penati, che io ho alle mie spalle ben una sola campagna di esperienza come master. Ma infatti non prenderlo come una cosa... hai fatto una cazzata, brutto figlio di... ma più come un... renditi conto che c'è questo problema adesso che è una cosa su Waffe & Glory, eccetera. Tu qui lavorerò in futuro. Ah, pensi davvero che ti permetterò di masterare dopo questa campagna? Non pensaggi neanche. La considero almeno due punti meglio rispetto alla campagna di esperienza. Pensi davvero che qualcuno possa masterare su questa campagna? Ho già bruciato Nicola, ho bruciato Zippo e brucerò anche te. Io sarò l'unico master su questo canale. Vuoi essere l'unico master a questo mondo? Ho scoperto che a Lucca Comics fanno i tornei di master. Ho visto, ho scoperto anche che tipo ci vanno sempre le stesse persone perché o nessuno sa che lo fanno o perché a nessuno importa. Lucca, una cosa. Lucca, una cosa, che cazzo ti compro per il compleanno? Dobbiamo parlarne durante la registrazione, per favore. Non lo so, parlavate di un po' di tutto. Non denomigli. L'altro si aveva detto che facevano la ristampa di Gigantomachia, se volevi comprargliela. L'ho già ordinata, esce l'ottobre e sono 5,50 euro, spicci, così, non importa. Ora mi ricordo, c'era stream o scrim o come cazzo di narrativa, una cosa del genere. Oddio, sì, ma parliamo di roba vecchia, ormai non mi interessa più. Sono quelle cose del momento che... Però sul serio non parliamo adesso e soprattutto tu non ti devi preoccupare perché tu mi hai lasciato i due manuali di household, sono qui a casa mia. Quindi per me quelli contano, non devi farmi niente, zippo, va bene? Per l'amore del cielo. Devo spendere soldi, va bene, perfetto. Ti vieto di spendere soldi. Io come regalo di compleanno ti restituisco un manuale dell'avventura del gioco libro dell'ultima torta. Da nozione, me ne ero finalmente liberato. Comunque, abbiamo detto, c'è stato questo recap incredibile. Che cosa c'è stato ancora di importante la scorsa sessione? Comunque è vero, quando questo video uscirà il mio compleanno sarà già passato da una settimana. Ciao, penati del futuro, quindi auguri del futuro. O del pazzato, chi lo sa. Dovrò mettere dei timestamp anche per questo. Qualche cose che sapete ancora su invece il cadavere precedente. Avete scoperto che... Che il tizio che l'ha ucciso era grosso. Il tizio che l'ha ucciso era grosso e che aveva un coltello nel tetto. Che potete presumere sia tipo l'arma del delitto. E che a quanto pare tutti quanti hanno un movente per aver ucciso sto pezzo di merda. Infatti nessuno si è cagato neanche il cazzo di coprire il cadavere con la coperta né niente. Beh, l'abbiamo fatto. Chi faceva colazione di fianco. Qualcuno l'aveva fatto poi. Bene, chiariamo il fatto che siete degli animali. Torniamo. Ragazzi. Oh, l'ha fatto lui. Oh mio Dio, adesso dobbiamo ucciderti. Questo è problematico. Cos'è successo? Chi è che l'ha fatto? Ha detto che l'ha ucciso lui. Mio Dio. No, ho messo la coperta. No. Ah, ok. Ok. Ora, torniamo. Cos'è che avevo detto? Scusate. No, si è confuso. Per favore, torniamo alla cazzo di soluzione. Ok. Quindi, riprendiamo dall'appello. Siete tutti quanti in sala da pranzo. Che non è la sala dove c'è stato ucciso. Qual è la cucina? Sala da pranzo è quella dove avete pranzato. Dove c'è l'acquario, tra l'altro? Sì. E in pratica il professor Ryan vi ha fatto venire tutti qua per andare a cercare il professor Davet scomparso. Siete andati in giro? Avete cercato per una misuretta? Un'altra cosa. Il maestro di cerimonia ci ha di nuovo fatto avanzare. Ah, è vero. Mi ero dimenticato. Nicola, tu vuoi attendere un'altra mossa? Sì. Io ho visto che la scorsa volta ho descritto il mio personaggio come una sorta di essere che è collegato all'acqua, ho preso la mossa anima elementale dell'elementale, che è una pelle che ho creato io e che è nel link in descrizione. Oddio, che buffo dire queste cose, non sono abituato. E quindi adesso, spendendo un punto potere, ho un bonus di più uno oscuro per una scena, che è molto più debole rispetto a prendere l'avanzamento che ti dà direttamente un più uno oscuro, però per roleplay ci sta un sacco. Intanto che Nicola pensa che mossa prendere... Io mi sa che prenderò un più uno adesso perché... L'hai già preso, non puoi prenderne un altro. Lui ha preso tutte le mosse. No, non ho preso nessun più uno. No, avevi preso tutte le fatture, però scusa. Le fatture, sì, scusa. L'ho preso io. L'ho preso il più uno, scusa, mi sono confondo. Giusto, aspetta tu... Infatti, se vuoi un attimo dire che abilità hai preso anche tu, Zippo? Ah, ok. Io ho preso Charm, che è un'abilità della succube, è una pelle che ho inventato io, supervisionata da Luke, non ditelo a nessuno, che praticamente permette di ipnotizzare gli altri con caldo e farli eccitare. Ma infatti... Avete un minimo di colture. Guarda che tutte le pelli, anche quelle che ha scritto bassa, sono passate attraverso il mio filtro, eh. Però non è che metto il mio nome alle vostre pelli, siete voi ad averle create, eccetera, anche se io vi ho dato una mano a bilanciarle. Tra l'altro mi piace come in questa campagna ci sia il 90% di pelli artigianali fatte da noi. Comunque, in pratica, Charm è un copycat di ipnosi del vampiro, però che si basa... Charm, sì, lo pronunciavo giusto. Che si basa sulla seduzione, anziché su un potere... Cioè, è comunque un potere sovranaturale, però è più legato a quello della Sokub. E ha conseguenze più legate a quelle della Sokub. Una cosa simile a quella di una delle nuove pelli in lavorazione di bassa, la Kitsune, che fa quasi esattamente la stessa identica cosa. Quindi c'è anche un... C'è un po' un surplus di queste ipnosi basate su Charm, onestamente. L'ipnosi che ha la Kitsune non è niente in confronto a quelle altre. Dura soltanto durante l'amplesso. È vero, ed è per questo che l'accetto, perché era nuova, anche se... è simile a quell'altra. Bene. Quindi... È più intensa, ma più ristretta. Comunque, avete quindi cercato... Quindi tracce di sangue. E avete appena arrivato... È appena ricorso Marcos dicendo che ha trovato delle tracce di sangue nel bagno. Vi ricordo che, infatti, ci sono dei bagni alla fine delle stanze, perché voi avete un bagno privato in ogni stanza. Sì, ok. Non perdiamoci tempo. Ma poi ci sono... Vabbè. Ci sono dei bagni non proprio pubblici, ma comuni alla fine del corredoio. E dove è stato trovato? Esatto. Dove è stato trovato voi? Nel bagno comune? In un bagno... Nel bagno quello comune. Sì, perché noi ne abbiamo nelle nostre stanze, era questo che stavi dicendo. Ok, avevo mancato la parte E nella nostra stanza. Va bene. E Magnus ci dice, visto che al momento il giocatore non ci arriverà dopo, che appunto lui aveva visto... Ha proprio un tracce di sangue e una scarpa? No, Magnus, non Marcos. Ah, scusa. Ci dice appunto che lui aveva notato il professore lì. Esatto. E noi riportiamo questa cosa. Almeno io lo riporto subito, questa cosa. Che è stato visto dirigersi là da Magnus, eccetera, eccetera. A questo punto qualcuno potrebbe dire, ma l'abbiamo visto di recente. A quel punto io li prendo a pugni. Il professor Ryan quindi dice... Andiamo a controllare, allora. Però non dividiamoci. Non voglio altri ragazzini feriti o che facciano bravate come un nuotare nell'acquario. Adesso restiamo tutti uniti. Se succede qualcosa io non riesco a assumere le mie altre responsabilità. No, è bello. Lo vedete che è molto nel panico, molto spaventato. Quindi praticamente tutti quanti si dirigono verso il bagno, entrando una alla volta al bagno maschile. E quello che trovate è semplicemente una scarpa da... Non proprio tenue, non è tenue. Quelle sta peleganti nere, quelle che vengono... Una scarpa carina, un mocassino. Sono l'ultima persona a cui dovresti descrivere una cosa del genere. Io sono ancora peggio nel pensare a tipi di scarpe diversi. È un mocassino, semplicemente, che è davanti al lavandino. Ma era la scarpa del professore? Sì, riconoscete che è la stessa scarpa che indossava il professore. È davanti al lavandino e ci sono delle piazze di sangue sul vetro che vanno verso l'alto. Ciao Emma. Sangue! Sangue! Abbiamo appena iniziato, siamo nel bagno dove sono state trovate le tracce di sangue la scorsa volta. Ah, come in Harry Potter e la camera dei segreti. Un bagno del genere. Allora, io... Siamo in un bagno, puoi immaginare che cosa sto per fare. Esattamente, però lo farai di pronta agli altri. Cosa? Sarei di pronta agli altri a parlare dell'acqua. Ah, pensavo a espletare i propri bisogni. L'ho già fatto in precedenza, onestamente. Quindi, aspetta un attimo che devo abbassare un po' Emma, che è un po' troppo alto al momento. Abbassa, abbassa. Ah, ciao! È un gatto. È la mia gatta. Ciao, gatta di Emma. Iscriviti al nostro canale. Ci mancano soltanto 8 iscritti per aggiungere lo stesso numero di iscritti del canale. Emma, parla un attimo che devo verificare il volume. Prova, prova. Ok, penso che possa andare. Ti abbasso giusto un attimo un po' per extra measure. Ci mancano 8 iscritti per cosa? Per aggiungere lo stesso numero di iscritti che ha il canale di Hybe. La piattaforma italiana dei... Degli censer. Quindi, tutti quelli che guardano questo video, iscrivetevi subito, che così raggiungiamo il numero di iscritti di Hybe. Oppure iscrivetevi live. Perché non sta andando? Bella domanda, sta dormendo. Domanda. Non lo so. Aspetta, provo a tirare io. A volte capita che ci metta semplicemente un po'. Ok, ci sta mettendo un po', a quanto pare. Comunque, quindi, io... In base al risultato ti potrò dire che cosa vedi nell'acqua, immagino. Sì, quindi, io... Dimmi come vuoi farlo, però. È quello che sto cercando di... Allora, ci sono i professori, eccetera. E tutta la cosa è lì, riunita in bagno. Anzi, il professor Ryan ha ignorato bellamente Nicole e... Marcos e April, quelli che si stavano facendo i tappi loro, oppure che stavano cercando di... Riprendersi dal trauma e gli appatti venivano tutti quanti. Ok, allora, io mi appoggio al lavandino. Guardo un po' in basso, come se cercassi di stogliere lo sguardo. E chiedo all'aria, sai no, come un'escalazione normale, ma in realtà cercando di guardare all'acqua. Cosa diavolo è successo al professor Franco Ballo? Non mi ricordo, insomma. David. Franco Ballo. Allora, visto che non tira, se vuoi ti faccio tirare su Telegram. Vediamo. Il role di bot. Tanto il bot l'ho messo praticamente su ogni gruppo che abbiamo. Ma a me è in altre chat, a volte Discord da rogne. 14, ho tirato il massimo. Ah, fanculo, non ti avrei dovuto far tirare su questo role, su questo bot, va fanculo. Cos'è che mi hai chiesto? Scusa. Cos'è successo al professore? Sono stufo di girarci intorno, voglio una visione chiara di che cosa è successo. Ok, vuoi quindi sapere cosa è successo in quel momento? Voglio la visione del passato, sì. Ok. Siamo all'ultima sessione, non me ne frega più niente. Ok. Le goccioline d'acqua ti dicono qualcosa. Ti dicono che nell'aria c'è un'impronta magica. Qualcuno ha cercato di fare un incantesimo. E poi qualcuno è stato forzatamente bloccato. Quel qualcuno è ancora in vita anche, ti dicono. Ok. Questo non spiega che cosa è successo al professore, però. Non l'hanno visto direttamente. Non l'hanno visto direttamente. La magia delle goccioline d'acqua non... Quindi o lui sta facendo... Loro non vedono direttamente le goccioline d'acqua, non hanno degli occhi, però hanno potuto percepire la magia che è successa nell'ambiente. Ok, sì. E ti possono dire che c'è stato un incantesimo che qualcuno ha cercato di lanciare che è stato forzatamente interrotto. E ti possono dire anche che le due persone che erano coinvolte nell'accaduto, quindi David e il suo presunto assalitore, erano entrambi vive quando hanno lasciato la stanza. Io sento un rumore di fondo, lo sentite anche voi? Sì, è il fruscio, è tornato. Sì, anch'io. Nicola parla, di solito smette. No, no, è tutto il silenzio? Silenzio? No, è c'è, sì, ma è... No, è sicuro non si illumina nessuno. Lo so, è il coso di Discord, quindi io sto dicendo Nicola parla che l'ultima volta tu hai parlato e ha smesso. Quando Nicola parla smette, è per questo che stavo cercando di farlo. Eh, non me lo ricordavo. Così Nicola parla, zitti tutti che sto... Ok, no. Zitti nuovo. Comunque questo significa che prendo uno prossimo. Ok. Quindi, però in che senso se ne sono andati? Cioè c'è la scea di sangue, ha perso una scappa, quindi è andato... Ok. No, non c'è una scea di sangue. Non c'è nessuna scea di sangue che non va. E dove era il sangue, allora? Il sangue è sulla parete. Allora, c'è la parete del bagno dove c'è lo specchio e il lavandino. Ok. Ecco, sotto quel lavandino lì, che è un lavandino appeso, in pratica, c'è caduta una scarpa, come se qualcuno fosse davanti a quel lavandino. E c'è una scea di sangue che va sul lavandino e anche un po' sul muro. Cioè sul vetro e un po' sul muro. Non ci sono gocce di sangue nel corridoio. Magari piccola. No. Voi non ne avete viste, quantomeno. Non sono visibili come le gocce di sangue. Ok, io esco dal bagno e provo a radunare un attimo il mio gruppo. Aspè, ma nei water c'è qualcosa dentro? Se qualcun altro vuole fare un test per capire la situazione in maniera diversa da quella di Penati, può anche farlo, eh. Se volete fare domande diverse appunto sulle sangue, su qualcos'altro, fate pure. Ma tipo nascosto nei water c'è qualcosa? Magari un coltello? Tu provi a cercare... Anzi, fammi un tiro comunque. Su cosa? Su scuro. Come ti fanno i tiri su Discord? Eh, adesso bisogna vedere se funzionerà. No, su Discord e su Telegram volevo dire. Slash roll, come Roll20. Esatto. Però adesso stai scrivendo su Discord. Adesso provo su Discord un app. Ok. Prova se funziona. Niente Discord. Cazzo. L'hanno cambiato! Adesso è Slash Roll anche con Dacemaiden. C'è scritto che sta ascoltando Slash Roll. Aha, allora... No, non va comunque. Cosa? Perché? C'è scritto? No, eccolo, hai visto? Ci ha messo un po' però, eccolo qua. Ah no, questo l'ho appena lanciato io. Questo l'ho appena lanciato io. Ok. Roll, 2 di 6, più 2. Adesso te lo immanda tipo come comando. Eh, l'hanno cambiato evidentemente. C'è strano. Infatti se lo faccio tipo copia e incolla, non me lo manda. Devo proprio scriverlo. Devi selezionarlo. Ok. Quando digiti devi selezionarlo. Ok. È una cosa che ti apre. Ti apre tipo un menu a tendina. Ok. Beh, un po' fastidioso. Comunque 10. Peccato. Vabbè, funziona comunque. Beh, avranno avuto i loro motivi per farli. Che cosa mi stavi cercando, quindi tu? Se c'era qualcosa nascosto nei bagni, nel water, qualcuno ha getto qualcosa. Provi a ispezionare i bagni, provi a guardarti in giro, però non trovi niente che possa giustificare delle macchie di sangue o comunque un'aggressione. Non c'è nulla di inusuale, a parte quello che troveresti in un normale bagno. Tocca a me, tocca a me. Ma avendo fatto 10, hai comunque un'uno prossimo. Avendo fatto 10, hai comunque un'uno prossimo. Va bene. Visto che mi sento sola, tiro anch'io su oscuro, chiedendo ai miei muscoli. Come è avvenuta la dinamica dell'incidente? Cioè, come qualcuno ha perso quella... Usando le sue conoscenze fisiche. Mio Dio, il modo in cui riesce a giustificare questi tiri è assurdo. Quanto hai fatto? Non l'ho lanciato. Ema, puoi scegliere un avanzamento. Ho 2 di 6. Ma perché mi mette? Puoi scegliere... Ho fallito qualche tiro? No, perché visto che l'avventura è breve ci fa livellare ogni cosa. Ma così 10 avete fatto? Quindi puoi scegliere qualcosa. O è dopo quando la scheda dell'arachno. Sì. Ok. Dai tuoi muscoli puoi capire qualcosa. Puoi capire che il colpo che è stato dato questa volta, la chiazza di sangue e tutto, è diverso da quello che è successo prima. Se Nicola puoi parlare di nuovo che c'è ancora il fluscio? Parlo, parlo. Funziona sempre. Esperito. È vero, è strano. Ti accorgi di come la macchia di sangue che ci sta sul muro fa presagire il fatto che probabilmente è stato colpito dal basso e con un'alma coltundente. Quindi non con un coltello. Forse una matta, un piedi di porco, un qualcosa che comunque faccia da botta. E una volta ha raggiunto la conclusione che quindi probabilmente è un qualcosa tipo matta, tipo mattone o robe del genere, puoi capire anche che si trattava probabilmente di qualcuno più basso del professor David, che quindi l'ha cercato di colpire probabilmente alla schiena o forse di fronte, se il professor David era girato, ma che comunque l'ha colpito dal basso verso l'alto. Ok. Ho capito. E prendo uno. Ma secondo me è fatto l'Az, allora. E? E non dico nulla. No, è il più basso. Però? Poi? Ah, c'è una persona più bassa in realtà di Azz, ricordiamoci quello che ha bullizzato l'altra volta, scoprendo che si segava di fronte ai computer. Albert. Ricordiamoci però di un'altra cosa. Questa cosa non sono i tuoi muscoli a dirtela, ma è il tuo olfatto. Olfatto, ovvero sente un odore femminile nell'aria. Un odore di una donna. C'ero già evitato. E lo stesso odore è quello della... Della... Non potevi... Non potevi dirla a Liliana questa cosa che hai detto no, non trovi niente. Eh, ma perché lui ha cercato nei bagni, quindi non c'era effettivamente nulla. Eh, vabbè, cioè... Vabbè, è Liliana che si accorge che c'è l'odore di Adele nell'aria. Cioè, Mai ha già scoperto una cosa, ma facciamogli scoprire a Liliana questa cosa. Ah, guarda, ho fatto scoprire due cose anche a te in realtà. Quindi ho fatto scoprire due cose a tutti. Oppure una cosa ognuno. Vedetela come vi pare. Ok. Bene. Comunque, visto che hanno fatto tutti qualcosa, vuoi fare qualcosa anche tu? Ema, hai qualcosa che vorresti cercare? Magnus. Vediamo. Siamo ancora lì nella tua let. L'hai trovata la tua scheda, tra l'altro? No. Tipo le trame che puoi utilizzare, che è tipo il tuo intero... Il tuo intero personaggio. Che cosa sono? Aspetta che ce l'ho qua a portata di mano. Ah, però lui non ha tutte le trame, è vero? No, dovrebbe sceglierle, appunto. Le trame in teoria sono, rimuovono un filo che hanno su di te, zettisci qualcuno impedendo di attaccare virtualmente, inizia un attacco di violenza, si allontanano, ti allontani, se ti aiutano, hai uno prossimo, lo segnano l'esperienza, puoi uscire da una persona dal suo scuro e loro curano un danno. Ah, beh, io ho un danno che potrebbe essere curato, effettivamente, visto che non possiamo dormire, però vabbè. Forse aveva un danno anche Maya. Io, sì, esatto. Come avrebbe stato fatto un danno? Io con la corrente elettrica Maya non ne ho idea. Ah, ne ho ricordo. Come con la corrente? Sistemando i cavi del secondo piano. Ah, ok. Dunque. Come dicevo, siamo ancora lì nei bagni, giusto? Yes, abbiamo fatto tutti un tiro per guardare nell'abisso e cercare di capire qualcosa sulla situazione. Mirko, il tuo personaggio come guarda nell'abisso? Il mio? Sì. Allora... Sì, l'avevo fatto anche la volta scorsa, mi sembra. Ottimo, sai che non mi ricordo. E l'arachne com'è? Perché le origini del tuo personaggio era che era un personaggio comunque umano, che è diventato arachne, giusto? Sì, sì. O era di origini familiari magiche? No, no, no. Era... Era la prima opzione. Era un essere umano. È un essere umano. Beh. Guarda, se vuoi, allora, ok, se vuoi puoi farmi un tiro su oscuro in generale, per mettere insieme tutti questi dettagli che hanno cercato gli altri giocatori. E quindi, appunto, che era quello che volevo suggerire io. Mettere assieme i pezzi. Che noi ci spostiamo fuori e utilizziamo la capacità di Magnus di mettere assieme i fili, visto che è un arachne. Esatto. Mettere assieme i pezzi. Esatto. I pezzi per scoprire gli indizi che più o meno non ho ancora detto. Condividiamo le nostre informazioni e tu puoi fare un tiro per guardare adesso. Allora, roll 2d6. Sì, devi selezionarlo come comando, però non devi soltanto scriverlo. In che senso? Tu digiti slash roll e ti esce fuori la cosa. Ah, vuoi utilizzare il comando slash roll e devi dirgli edsi. Aspettiamo slash. Almeno credo, io non l'ho ancora provato, però mi sembrava così. Ah, voi. Io posso anche scriverlo e non... Sì. A me quando esce... Devi selezionarlo a quanto pare. Compare il message, sì. Sì. Allora. E poi adesso... E poi digitalo il resto. 2d6. Cos'era? Più 2? Più 1. Più 2. Più 2. Vediamo un po'. Eccolo qua. Nerda. Merda. Qualcuno doveva fallire. Beh, dopo che tutti hanno fatto 10, porca vacca. Almeno qualcuno con un mentino normale. Ok. Quindi vi ritrovate un attimo fuori dal bagno, giusto? Sì. Per discutere tra di voi. Tra l'altro c'è... C'è Marid che vi dice di non allontanarvi troppo. Che è Ryan. È un pochettino... Sembra un pochettino... Nel panico. Quindi non vi fa allontanare troppo. E discutete un attimo di queste informazioni qua. Ne parlate anche un attimo tra di voi. Però più di questo non riuscite a trovare. Dobbiamo parlare con la professoressa, quindi. Volete che vi faccia un recap di quello che avete trovato? Allora. Rituale fallito. Erano in due, la seconda persona era la professoressa. Non era un rituale, era un incantesimo. Cioè, tracce di magia in generale. Qualcuno ha cercato di lanciare una magia. Che però è stata bloccata. È stato colpito dal basso, probabilmente la professoressa, con qualcosa tipo una razza. Se ne sono andati entrambi, però. Erano entrambi... Allora probabilmente è stato colpito, lui è svenuto. Erano entrambi vivi quando se ne sono andati. Quindi lui probabilmente è svenuto, trascinato via. E questo spiega perché l'ha lasciato qua la scarpa. Az, una cosa. Tu prima, quando eri trasformato nel professore, la professoressa non ci ha provato con te? No, era Adele. Era Adele? Sì, l'odore che c'era nell'arte era quello di Adele. Non era professoressa. Era la dottoranza, Adele. Si è sentito distorto, io non avevo capito. Scusate, comunque sì, l'odore era quello di Adele. Non è quello di Michelle, è quello di Adele. What the fuck? Era con noi dopo? Perché non... Se era con noi dopo, doveva saperlo che tu eri morto. Beh, non io, ma il tizio. Sì. Però, sì, confermo quello che... Forse, se non ve lo ricordate, confermo quello che stava dicendo Zippo, sul fatto che, quando è cercato di mettere in imbarazzo il professor Davet, lei si è mostrata molto intima, diciamo, nei tuoi confronti, e anche sessualmente aperta, in un certo senso. Sì, quello era preoccupante. Specialmente se adesso non avrebbe... Sì, però è l'aspetto del professore. Quindi io direi... Ricordiamo che Adele non è una pedofila, quindi... Io direi che in realtà hanno solo fatto sesso e Adele era vergine. Ma vaffanculo. Quello è solo un po' di sveglia da sveglia. Se solo sapessimo qualcuno che se ne intenda di magia, potremmo capire di più su quello che è stato tentato di fare. Bella si strega. E lo so, però mi sono reso conto che il mio presaggio non lo sa, perché se l'avessi saputo Liliana in questo momento sarebbe pinnata contro il muro con io che la interrogo, come ho fatto con Albert. Ti tengo a precisare che tra l'altro due dei vostri personaggi, pur avendo la possibilità di essere di origini magiche, sono molto umani invece. Sarebbe molto bello avere un presaggio strega, ma purtroppo, non sapendo bene come funzionavano le cose, ho scelto un modo di contattare l'abisso complesso. È vero. È vero. Quindi se mi date 20 minuti posso tornare con una risposta. Ma Reed però ti guarda e ti dice cerchiamo di non dividerci, per favore. Dov'è Adele adesso? Adele è lì con voi, in bagno. State guardando un po' la situazione e tutto, state cercando di vedere un attimo da farsi. Mentre i professori stanno, i professori in generale, un po' tutti voi, stanno pensando cosa fare. anch'io sto pensando cosa fare. Ragazzi, sappiate che quando ero alle superiori, o quando ero alle medie, avevo un'amica che si chiamava Monica, e lei aveva sempre un sacco di ragazzi, lei era praticamente il mio idolo, però mi dieron un sacco di consigli utili su come chiedere le cose alla gente, quindi se dovete chiedere qualcosa a qualcuno, affidatevi a me. Non ho capito se questo era real life o nel gioco. No, nel gioco penso fosse. Spero. Ci ho cercato anche io di fare un attimo, mentre lo fa adesso. per un secondo. Allora. Dobbiamo rilassirla. Devo provare a rubare qualcosa. Ah, bene. Ragazzi, potete anche semplicemente chiedere le cose. Lo so, ma ci sono troppe persone in giro. No, fatemi... Devo rubare qualcosa. Ironicamente potrei dirvi l'idea di dividere il gruppo. Potrebbe essere interessante. Citazione a Scooby-Doo. Ragazzi, separiamoci e cerchiamo indizi. Allora, chi viene con me a vedere la stanza di Adele? Io non ho voglia di rubare cose. Però sono brava a fare domande. No, ma io non dico rubare cose d'altra voce. E io dico, chi vuole con me la stanza di Adele? Io ve lo chiedo, ma in questa discussione qua della stanza di Adele e tutto prendete in considerazione di portare anche tipo Tabitha o tipo Albert o qualche personaggio secondario? No, non possiamo fidarci di nessuno di loro. Beh, bisogna precisare che in teoria quelli che erano giù con voi Adele non è un mostro enorme, ok? Quindi ovvio che c'è più di un qualcuno c'è più di uno qua che non ce la conta giusta. O è un mutaforma? Sì, è attaccato con una mazza dal basso verso l'alto ne dubito fortemente. È un gnome armato di mazza. Ok. Io ci starei per andare team Liliana eccetera però questo significa Maya, Magnus voi dovete trovare un modo per isolare Adele e interrogarla. Allora, i professori in generale e anche gli studenti comunque vi dicono che non vi fanno... Maya ce n'è di più. Ha letteralmente la mossa, Charm. Anzi, è Marid stesso a dirvi che per lui non sta bene se vi allontanate dal gruppo e se siete unici. Se andate in coppia da due... Marid, fatti i cazzi tuoi. Boom! E tira su freddo. Freddo tantissimo. Ma fatti i cazzi tuoi. Mind your fucking business. Gli do un filo su di me. 12. Aspetta, non mi ricordo che cacchio faceva... 6 di 1. Quindi... Ok. Aspetta un attimo. Io avevo ottenuto, tra l'altro, uno prossimo. Ah, l'avrei passato senza aver bisogno di dargli un filo. Peccato. Allora mi prendo un altro uno prossimo. E dico, Marid, fatti i cazzi tuoi. E me ne vado con Liliana. Ok. Lui ti guarda un po' sorpreso e dice... Praticamente me ne vado prima che possa rispondere perché appunto non ho fatto 7-9. Sì, sì. Lo senti tra lui e lui dire... Che cazzo è questa cosa. Sai perché gli do un filo su di me? Perché nei guardali dei fatti che si suoi tiro fuori la mia faccia proprio da... Diciamo la mia vera faccia mostruosa. Quella che avresti andassi nel sé oscuro di una persona apatica proprio che non essendo umana non ha proprio tutte le cose... Per favore, su un instabile. Aspetta, ma volevo tipo fare proprio anche brillare gli occhi per un istante, sai no? Giusto per fargli venire il dubbio ed è per questo che prende Alfio su di me. Dira su instabile, per favore. Perché? Cosa? Sì, grazie. Non ho capito perché, però ok. 8. Ok. Io sto scegliendo se Marid ti concia, ti aggredisce oppure no. Questo vale per farti fuggire, mi sa. Marid è abbastanza comunque aggressivo. Però non hai una cattiva repurazione alla fine fine. Sì, inoltre in teoria tu puoi reagire soltanto se fallisco. Io ho fatto il successo più piano che ci siamo in stato. E comunque adesso hai fatto 8, quindi non posso neanche considerarlo come hai fallito quest'altro tiro. Penso che lui se l'aspettasse da me mi sono andato così velocemente che non ho avuto proprio il tempo di rispondere. Sì, però sai che cosa? L'insulto che gli hai dato comunque viene... attira l'attenzione un po' degli altri tuoi compagni. Sì, appunto è fai una scenata in questo caso. Non è una scenata grossa che ti dà condizioni niente del genere. Però altri hanno notato il tuo comportamento. Il mio shift. Sì. Ok. E soltanto lui ha visto i miei occhi brillare per un attimo di una natura non umana. Bene, io e Liliana quindi andiamo alla stanza di Adele e Maya speriamo che possa usare lo charme per aprire in due Adele fisicamente e mentalmente. That's fine for me, I guess. Va bene. Maid... E Magnus è lì per supporto perché ricordiamocelo può fare una domanda a un personaggio totalmente a caso semplicemente tirando su oscuro. Cioè non un adrande ma può ottenere un filo che in questa avventura interpretiamo come informazioni i fili a sto punto perché altrimenti... No, non per distrarlo ma proprio tu puoi fare un tiro e convincerla ad aprirsi con te e dirti qualcosa anche se non lo vorrebbe. Ok, va bene. Una cosa che tu vuoi anche se lei... anche se la persona è in questione. Non hai controllo su quello che ti dirà però ti dirà qualcosa di importante che ti darà un filo su di lei. Ok. Va bene. Ok, quindi... Maid... Mi dispiace, lo so è un po' agitato in questa situazione qua ma non preoccuparti. Scommetto che finirai in fretta. Bene. Ciao. Ok. Immagino che sia una situazione stesa un po' per tutti. Assolutamente sì. Bello che comunque è mio non farti cazzi tuoi che doveva tagliare corto la scena ci ha dato altri 5-10 minuti di roba da parlare. è incredibile questa avventura. Va benissimo. Ok, quindi dov'è Adele? Adele è lì in bagno con voi altri. Ok. spiegando ai professori il fatto che scendere al terzo piano in teoria è l'unico modo per accendere al pannello di controllo di quarto piano in realtà al pertenno di controllo di Evangeline e riattivare non solo l'energia elettrica dell'intero edificio ma sbloccare l'uscita all'ingresso alla base all'hotel. mi sta spiegando il professor Ryan questa cosa qui il professor Ryan non sembra molto convinto poi gliela spiega di nuovo il Jesse Pinkman e adesso sembra un po' più convinto. Grandissimo Jesse. Ok. No, è perché è un sessista di merda Ryan e non dava molto retta ad Adele. Ok. e quindi stanno adesso finendo un attimo questa discussione. Ok. Ok, ok, ok. Magnus, che facciamo? Vediamo. Ciao ragazzi! A chi lo dici? Ciao ragazzi. A che cazzo lo stai dicendo? A tutti i presenti. Ok. Ok. C'è un po' Albert ho un'idea di cosa stia per fare perché due sue mosse vanno particolarmente bene in combo. E' tipo Albert che si gira e dice Ciao. Ciao ragazzi. Vi dispiace se vi prendo Adele per un attimo ho un un problemino che soltanto lei potrebbe risolvere e non vi dispiace. Infino. Oh I guess non saprei su cosa farti tirare quindi semplicemente te lo farei fare immagino. Va bene. I guess che Adele dice è per forza necessaria la mia presenza. sì 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 super necessaria assolutamente va bene andiamo ok andiamo e va tutto tranquillo va tutto bene è tutto tranquillo va tutto bene lei 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 ti segue ci sono gli altri un po' perplessi e senti il professor Ryan che dice adesso Pinkman ok ok allora adesso forse è meglio dirigerci al terzo piano prenderemo tutti gli studenti e andremo tutti insieme al alla fine del terzo piano per scendere giù al quarto intanto che stanno farfugliando dietro voi due vallontanate ok va bene voi tre perché quanto pare c'è anche Magnus che vi segue sì sì ci sono anch'io loro due sono i nostri estrattori di verità adesso ok ok la porto in un luogo isolato suona così male mio dio detto così e questo è soltanto l'inizio il peggio viene dopo tranquilli la situazione peggiorerà ok quindi andate verso la sala di controllo che mi sembra il posto più facile in cui attirarla e anche il posto più tranquillo in un piccolo buio anzi forse puoi attirarla perché la sala di controllo è proprio di fianco alla sala da pranzo ah no però voi siete nei bagni quindi sì è praticamente dall'altra parte dell'edificio la sala di controllo ok portala pure lì ok immagino che questo posto vada bene quindi cara come stai? questo posto abbastanza male sì il lavoro della mia vita sta venendo distrutto davanti ai miei occhi una persona è scomparsa una persona è uccisa e siamo bloccati in questo hotel mi dispiace più di sei ore davvero sembra un'eternità più che altro tu come ti senti? hai visto due un compagno di classe un professore sparire ti senti bene? ho vomitato un paio di volte e mi sento molto affannata non c'è AS quindi forse un po' impaurita ma nessun problema non l'ho mai fatto le chiedo scusa ma per qualche motivo c'era il suo odore nel bagno? non so di che cosa stai parlando che cazzo domanda? ok odio fare questa cosa qua allora ti posso dire puoi cercare di sì inchiodarla non proprio non ha mosso per quello però no no volevo comunque cercava di zippo zippo ti ricordo di superiorità primitiva comunque ti aumenta no aspetta era soltanto per non è che ti aumentava caldo di base era soltanto per due mosse vero allora non puoi utilizzarne insieme scusa come non avresti detto niente vuoi provare a fare qualcosa di fantasioso puoi provare a flexare i muscoli e minacciarla o flexare i muscoli e scoprire qualcosa sui suoi muscoli scusa tu hai scritto che superiorità primitiva funziona per eccitare qualcuno per qualche motivo pensavo ti desse di bonus a caldo in generale sai perché perché eccitare qualcuno è l'unico tiro su caldo di mosse base quindi li metto sempre assieme mi dimentico che esistano altre mosse sì ma charm funziona come per eccitare qualcuno o l'hai modificata non mi ricordo tira su caldo ah no è solo tira su caldo eh sì l'ho modificata appunto per evitare certe combo strane va bene allora io uso charm la fisso direttamente negli occhi e mi avvicino a lei sai perché perché avevi già creato un'altra mossa che altre mosse in realtà che poi ho modificato che fossero per potenziare eccitare qualcuno quindi ho deciso di rispostare un po' giusto poi ho un più tre perché ho un uno prossimo quindi è comunque ottimo anche di base senza arrivare a più sei ok otto cos'è che faceva charm sono otto non dà esattamente non ipnotizza ma scelgono uno loro scelgono una che c'è da in maniera incontrollata sono disgustati si fingono indifferenti si mordono le labbra e sussurrano qualcosa ok che cos'è che hai chiesto a lei prima di ipnotizzarla o cercarla di scurre comunque perché c'è il suo do nel bagno si e all'informazione che avevo cosa c'entrava lei con quello che era successo in bagno ok ok aspetta un attimo devo riguardare un attimo quali sono le opzioni tra cui puoi scegliere ora non sono risultati eccitazione disgustato indifferente sussurra qualcosa sto pensando perché sono tutti divertenti da farle fare sto pensando quale magari potrebbe tornare anche più utile perché comunque alla fine è per quello che gli hai fatto questa domanda quindi sì diciamo che la risposta che ottieni da lei è che si avvicina ti sussurra nell'orecchio e dici e ti dice diciamo che io il professore ci siamo divertiti molto in bagno poi nella sua camera da letto poi nella mia camera da letto e poi invece nella stanza server e mettendoti una mano sulla spalla ti dice se vuoi dopo te lo posso fare provare l'hai eccitata in maniera inconsistata a chi scusa? a Maya a Maya ah ok sì sì non so non so quanto as ci sarebbe male però cazzo lei è vero lei non sa ancora merda dovremmo specificare dovrò farglielo sapere poi diciamo che ci potrei pensare su però era solo sesto cioè non c'entra niente con il fatto che lui è morto è morto mi dispiace non era proprio una bella persona mi scusi lui è stata soltanto un'avventura di una volta è vero che è stata molto passionale ha detto che l'ha fatto nella loro stanza e nella sua stanza e nel bagno una volta l'ho fatto quattro volte ovunque sì però vedi che sta cominciando a essere un po' confusa le parole che ti sta dicendo sono non poco sensate ma molto incentrate sul sul fatto che vorrebbe avere un rapporto con te cioè lei è citata molto e quindi adesso si sta concentrando soltanto su questa cosa qui Magnus è il momento è totalmente fusa di cervello è il momento per utilizzare l'altra cosa per farle dire qualcosa che non vorrebbe dirci adesso devo tirare su oscuro cosa hai scelto come avanzamento poi allora perché se hai scelto un più uno questo potrebbe esserti utile anche subito allora se lo metti su oscuro sì ricordami perché stavo ascoltando mi sono dimenticato di andare a vedere ricordami dove erano le schede dell'aracne eccetera non mi ricordo sono sono su telegram sul gruppo schede statistiche però sono in un link che ti porta sulla mia cartella di google drive o forse l'aracne è anche una delle schede che abbiamo andato separatamente però dovresti ritrovare dietro nei file posso mandare anche su messenger ce l'ho salvata sull'ipad messenger sì perché ema risponde su messenger ma non su telegram quindi uso su quello ok che strana cosa non sentivo la parola messenger da una vita eh lo so ma io telegram non lo uso moltissimo eccolo qua adesso vado su messenger dal pc in via grazie intanto ci metto poco sì sono 156 kilobytes ma questa cosa qua è perché perché deve vedere quanto ha in oscuro in per vedere le sue mosse che non ha la schede perché non mi ricordo allora allora aracne intanto intanto in background mentre stai cercando questa cosa ci sono Adele e Maya che stanno flirtando un pochettino Maya non so quanto ci sta se Adele comincia a diventare un po' piccicosa era esperta esatto Maya dacci un po' più un'idea di che cosa passi per la testa nel tuo personaggio che è una delle domande che il manuale ti suggerisce di fare ai tuoi giocatori ogni tanto e io l'ho fatta una volta la scorsa campagna poi mi sono dimenticato come una mosca nella tela sembra utile nella tela puoi usare più di un filo in un tiro contro una persona che si trovi nella tua ragnatela però per ora non avete hai soltanto me nella ragnatela però allora no non è che avete tante filo toccare le corde giuste una volta per scena quella ce l'hai quella ce l'hai ah no ce l'hai lieto fine hai qualcuno quella non conta non serve è per questo che vi suggerivo un più uno perché le altre non ti sono esattamente utili allora aggiungo e aggiungo allora aggiungo un più uno a una caratteristica quale caratteristica vediamo direi a direi di metterlo v sì perché avevo scelto freddo 2 instabile a meno 1 no hai caldo 1 scuro 2 ah no hai ragione sì mi ero confuso poter buffare un pochettino la squadra che a quanto pare sembra un pochettino concentrata soltanto sulla figura di Maya nel combattimento potrebbe essere utile e non lo dico perché ho previsto un combattimento più avanti ma sì dai mando instabile a più più 0 no perché è l'abitudine vabbè quello che pensa il mio personaggio intanto lei aveva paura di andare con un ragazzo perché semplicemente era più forte però non è totalmente inesperta la sua amica di infanzia Monica che era quella che gli ha insegnato a convincere la gente guardandolo negli occhi ha passato dei bei momenti con lei perché lei era una succube ah era questo il punto della storia non ce l'ho arrivato ok neanch'io ce l'ho arrivato esattamente quindi a lei non dispiace una cosa del genere poi si serve per ottenere informazioni beh a Dele a quanto pare in questo momento ci sta ok intanto Magnus fai quella domanda e poi adesso la faccio adesso l'abbiamo stabilito adesso sei più zero inestabile però devi tenere il suo scuro quindi con più zero sì allora però cos'è che ci interessava scusami non ha importanza perché non devi fare una domanda in realtà la nostra non funziona in quel modo sono loro che ti dicono qualcosa ma qualcosa in generale un loro segreto è qualcosa di importante è abbastanza da essere almeno un filo dipende da quanto fa poi ok sì quindi dipende da quello che sceglierà la lista ok in questo caso sì la lista è quella di mosse base no la lista di cazzo è scritta testa mosse pelle bassa non ho capito quali mosse ha usato scusa toccare le corde giuste quella che ha usato toccare le corde giuste ok ok e non c'è aperta la cosa della racne ok e devi scegliere te bassa che cosa che cosa ti danno appunto ottieni un filo su di loro condividono un filo che hanno su qualcun altro se ce l'hanno prendono se ce l'hanno perdono un filo che hanno su di te non avevano fili su di te no non penso sinceramente lei non ha segreti veri e propri che valgono come un filo la conoscete da poco almeno non ha segreti che possono essere utili nella situazione quindi probabilmente inventerò un segreto su davet quindi prendiamo il filo solo di lui ok quindi mentre sta palpando il il culo di maia la la senti dire che le piacere che secondo me che secondo lei maia starebbe bene con un bel paio di ali da farfalla come quelle di davet quindi facendo due più due anche se non avete una così grande esperienza nel resto del mondo anzi no sapete voi due non avete praticamente nessuna esperienza con le altre pelli quindi non siete sicuri di che cavolo di pelle sia però aveva un paio di ali da farfalla a livello di metagame probabilmente davet era un fatato no ma guarda che in realtà anche se ma dice che il suo personaggio è umano l'arachne non è non è umano quindi è più probabilmente è della stessa stirpe delle fate quindi ha senso che lo sappiano ma probabilmente comunque quando vi sareste visti tra di voi è che la sua famiglia si comporta molto in maniera umana quindi in tal caso Magnus comunque riesce a capire che si sta trattando probabilmente di un fatato ok Magnus se non ti dispiace io continuo l'interrogazione da sola fa pure possiamo shiftare quindi a noi sì Magnus chiude la porta te ne va e adesso ritorniamo un attimo su Ad e Liliana che non mi ricordo minimamente che cosa stiamo stiamo andando nella stanza di Adele ma immagino che a sto punto sia praticamente inutile ma non importa perché in realtà stiamo andando più che altro per stare da solo con Liliana ok mi dispiace il personaggio di Adele cioè non è che c'è così tanto segreto da fare questo era il suo segreto che era scopata il professore beh abbiamo scoperto comunque qualcosa ok potete però probabilmente toglierlo dalla lista dei sospettati beh noi questo ancora non lo sappiamo però ok io lo so quindi mentre andiamo lì allora quindi l'hai uccito tu continuo a non capire perché hai questo atteggiamento negativo con tutti gli altri ok può essere un tratto di personaggio interessante se interpreti un personaggio ma noi siamo persone vere ma non capisco perché lo devi fare anche con me che ci conosciamo da quando abbiamo iniziato il club assieme un anno tipo due forse ho costretto te e Magnus a fondare quel club ci conosciamo da allora un piano molto distorto se vuoi Nicola mi puoi tirare su mantenere il controllo oppure genare in base a come ti vuoi rapportare sì anche perché io volevo proseguire con sei stata l'unica persona che non ha effettivamente reagito in maniera onesta alla mia rivelazione quindi volevo adesso che siamo da soli saperne di più se ti causa qualche problema o qualcosa dovrebbe causarmene sei pericoloso no ma sono letteralmente fatto di gelatina posso trasformarmi in qualunque persona a piacimento e fare quello che voglio quindi sì in un certo senso per i comuni esseri umani sono pericoloso sono pericoloso e cioè potrei assassinare qualcuno probabilmente no non sono comunque forte beh puoi uccidere e sostituire il presidente degli Stati Uniti d'America volendo non avrei potuto uccidere ho già dimenticato il suo nome Richard ah Richard morto da sei ore già non mi ricordo più come si chiama Goodreadance Goodwin no Goodreadance Redance significa finalmente ce lo siamo levato dalle palle ah pensavo aspetti ok non mi ricordavo il suo cognome non mi ricordavo il suo nome figurati se mi ricordavo il cognome beh a me non fai paura questo è buono hai intenzione di vendermi agli scienziati appena usciamo da qui pagherebbero molto forse forse sono una forma di vita artificiale creata in laboratorio totalmente sapiente e se posso permettermelo piuttosto intelligente ne avranno decine come te qua sotto beh diciamo che per fortuna non ho molto un interesse nei confronti di eventuali altri della mia specie sempre che esistano quindi possono tenerseli se sono troppo stupidi da riuscire a fuggire no comunque per tua fortuna non mi interessano i soldi e questo posto non ha nulla da offrire ufficialmente la città del futuro c'è tutto stai zitto ma è scienza cioè uno più uno fa un pesce abbiamo già detto la prima volta non è importante quando hai la magia e lei ce l'ha ok quello che ti interessa quindi sono i trinkets beh immagino che in questa stanza ne troverai qualcuno perché siamo arrivati alla stanza di Adele è vero non è che c'è qualcos'altro a farci lungo alla stanza arrivate tranquillamente alla stanza di Adele la aprite e trovate la copia perfetta delle vostre stesse stanze il letto di sfatto ci sono un po' di vestiti in giro una valigia no non è vero perché mi sono ricordato che Adele è una tirocinanta che lavora qui da probabilmente molto tempo e non è la professoressa Michelle che continua a confondere con Adele quindi probabilmente nella sua stanza ci sono un po' più cose effetti personali orologi foto di famiglia braccialetti collanine orecchini un gran numero di libri cioè universitari visto che è una dottoranda appunti note in giro soprattutto molti appunti sui procedimenti cioè su in generale l'hotel apocalisse e l'evoluzione di Evangeline che presumate che siano parte del suo lavoro alla fine non c'è un cadavere di Ads e vedi che mi sono trasformato in tema continuo a parlare con la mia voce maschile me stessa dato che tu sei un maschio credo a volte lo sono sì se ti avessero appena spaccato le palle con una mazza nel bagno dove andresti dato che non troviamo il corpo di questo tipo probabilmente mi avrebbero trascinato via in quel caso non c'erano segni di sangue per terra però se l'hanno mangiato perché l'hanno colpito la testa immagino però c'erano schizzi di sangue sul muro l'hanno colpito la testa cosa mi tocca fare allora se ho sbagliato lei ha parlato no noi non eravamo lì quando ha parlato di dove hanno fatto sesso merda ok non prenderla come una cosa personale intanto intanto in questa forma ti salto addosso e me lo scopo e me la scopo il contatto e me è oscuro ok innanzitutto prima tira su caldo e poi tira su oscuro per favore perché sono curioso di come reagirà il mio personaggio a questa cosa mi piace come in queste tre sessioni di fila avete fatto più sesso di quanto non abbiamo mai dimostro o vuol dire che le prossime campagne mi lascerò andare anche io un po' di più sì per favore la scorsa campagna mia è stata così morgiosa no è andato malissimo no vabbè questo è un figlio su di lei però questo era caldo sì io ho tre figli su di lei questo era caldo ah io avevo anche un più uno dal tiro prima è vero quindi sono già sette sette ed è già un successo perfetto che culo incredibile ok quindi devo scegliere ok ti do un filo o scego una delle azioni ok prima di scegliere la mia risposta devo dire wow 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 perché questa cosa tu non badarci e resta in questa forma non so se posso cioè io e Maya adesso abbiamo una cosa non so ancora esattamente non abbiamo discusso e quanto sia seria beh sì però adesso tu non sei tu sei me quindi non è tradimento no questa è una mia capacità sono sempre ho ancora la mia voce no non è vero non lo sai ti tolgo i restiti ok no sul serio perché lo stai facendo perché altrimenti io me ne vado cioè Az ha comunque dell'integrità morale ma quindi la tua reazione non l'ho ancora scelta non l'ho ancora scelta perché non prendi come scusa dicendogli che così otterrai più informazioni sul caso se mi dici se mi dai anche il minimo dell'intesa potrebbe andare bene però così no non posso devi dargli un dolcetto per porrlo a sedurre vediamo non puoi semplicemente saltare addosso a una donna ci ho provato sai cosa dovresti spendere un filo che è su di me per tentarmi a fare quello che vuoi posso spendere quanti fili vuoi o tre beh in questo caso uno solo perché c'è un sacco di gente che ha fili su Anz perché sono una persona trasparente e ho dato figli a tutti quando mi sono trasformato in bella vista di fronte a voi ok quindi mi dici prendo allora uso un filo e potrei dire non voglio rivelare troppo quindi puoi inventarti anche una scusa dicendo tipo in questo momento di crisi ho bisogno di appagare un po' i miei desideri sessuali per tirare avanti o qualcosa ok però devi anche pensare rilasciare l'attenzione sì ma devi pensare a qualcosa che mi convincerebbe e io ho appena detto forse sono in una relazione seria non posso fare una cosa del genere ti salverebbe la vita secondo me con te moriamo tutti segui il mio rivelamento l'assassino colpisce a chi scopa perché prima è morto Godwin Richard è la scusa più stupida che io abbia mai sentito e sei già fortunata che avevo già intenzione di includerti nella nostra relazione in ogni caso vai ma in realtà ci stavo pensando magari al vero vero a chi da chi scopa il prossimo stai airti tu a questo punto non avevo notato questa coincidenza di fattori forse il prossimo se tu basterebbe starti vicino prima o poi arriverà l'assassino vai d'accordo quindi tu hai detto che spogli il mio personaggio identico a te in ogni caso quindi nulla che tu non abbia già visto aspetta quanto avevi fatto per trasformarti ho fatto otto però ho scelto la voce diversa ah ok la cosa dice una voce rauca ma io ho pensato tengo la mia voce visto che hai comunque una voce più rauca di Liliana poi ho pensato e se magari qualcuno si trasforma in un personaggio che di base la voce rauca come lo interpreti ah una voce differente semplicemente esatto e quindi ho deciso quando mi trasforma in qualcuno così però ho la voce ho ancora la mia voce che si riconosce ovviamente soprattutto se mi trasforma in Liliana molto bene quindi quello succede e ricordiamoci che quindi le mosse si attivano tra l'altro però intanto tu fai quel tuo tiro su oscuro e ok 7 ti va di dirmi anche che cosa stai cercando nell'abisso ok e poi mi ricordate che cosa fanno le vostre due mosse la mia è prendere un segno simpatetico all'altra persona giusto è vero ha senso e la mia è che adesso praticamente una parte di me entra a far parte del suo corpo e se ci troviamo in pericolo lo sappiamo a vicenda se Liliana si troverà in pericolo io lo saprò automaticamente e se io mi troverò in pericolo lei lo saprà automaticamente ok perché in pratica una piccola parte di me si scinde e entra a far parte del suo corpo diciamo che lo scambio di liquidi che c'è durante il rapporto per te ha un valore un po' diverso essendo liquida non volevo dirlo però è effettivamente quello che c'è anche se in questo caso lo scambio è un po' dubbio visto può essere interpenza alla fine anche la saliva esatto quindi anche un bacio può essere interpenza così sono una specie molto invasiva ok adesso io a che punto posso chiedere qualcosa cioè chiedere in generale fammi la domanda puoi chiedere qualsiasi cosa ma con 7 o 9 ti mostrerà visioni confuse e allarmanti ottenendo comunque la tua risposta e poi comunque dipende sempre da come guardi nell'abisso tipo quello che chiede di solito Ad oppure Maya io l'ho sempre ristretto un pochettino perché lo possono chiedere in grandi quantità ma alla fine quello che chiedo non può essere così tanto preciso mentre il tuo è un potere molto più situazionale e tu sei una strega quindi in teoria puoi chiedere più o meno tutte le cose più o meno tu puoi effettivamente avere una visione come se avessi tu una spiera di cristallo in cui puoi vedere un po' qualsiasi cosa e questo è perché altrimenti guardare in abisso renderebbe tutto questo mistero più facile se funzionasse soltanto con le regole quasi quindi a questo punto proverei a capire cosa è successo invece chi ha ucciso e quindi com'è successa la morte di Godwin magari mettendo assieme le due cose ok ok in effetti mi ero dimenticato che c'era anche un altro morto è morto anche lui sì tutti si dimenticano del cadavere no com'è che erai il timestamp della scorsa volta nessuno frega qualcosa del cadavere nobody cares ok quindi mentre stai avendo un rapporto con te stessa proprio nel momento stesso in cui raggiungi l'orgasmo hai una visione una visione cruenta di una figura arrabbiata molto grossa bestiale proprio che si accanisce sul povero Richard povero tra virgolette si avventa contro di lui infilandogli il coltello nel petto non solo ti accorgi anche che la figura inizia a mostrarsi così aggressiva così violenta nei confronti di Richard da un evento quindi vedi la visione ritornare indietro nel tempo e vedi quella figura apporgere una collana alla povera vittima questa collana brucia la mano del di Richard ed è questo a far arrabbiare così tanto questa creatura che trapassa con un coltello il cesto del vostro il petto del vostro compagno e dalla sagoma di quella creatura puoi sai che cosa te lo dico su un altro vi faccio fare un altro tiro per questa cosa qui anche perché è un'informazione un po' piettino più elaborata ha ottenuto 7-9 infatti con 7 non è sufficiente tuttavia questa è la dinamica che vedi nella situazione questa figura grossa che all'inizio avvicina Richard in maniera innocua ma quando Richard butta via la collana con una mano bruciata si avventa su questo povero disgraziato più o meno tutti lo odiavano quindi povero ben poco non so quanto fa fare un tiro oppure no su questa cosa qui però fammi un tiro su instabile probabilmente per mantenere il controllo cosa? instabile per mantenere il controllo scusa non instabile è freddo a me che è la stessa cosa per quel piettino scusami per mantenere il controllo che forse ti do un'informazione in più ok fatto di nuovo ok la collana ti sembra familiare è la collana che tu hai preso dalla stanza di leona è la collana che in questo momento possiedi tu e dopodiché l'orgasmo è finito tutta questa cosa ti flash velocemente davanti e guardando in basso o in alto in base a che posizione eravate sono totalmente in basso rivedi la tua copia sputata che anche lei ha l'affanno andiamo ho capito tutto ah certo devo soltanto trovare ok va bene faccio finta la smetto con questa strozzata e vedi che faccio metto la mano e ci sono i miei vestiti che tipo gigante di ferro si mettono a muovere verso di me e rientrano nel mio corpo e si riformano attorno perché non sono mai stati i miei vestiti wow questo è il post orgasmo peggiore che abbia mai visto ok neanche un po' di occole dai sì quello è probabilmente una cosa che potrei dire io però oh l'aveva detto subito mi stava soltanto usando eccetera comunque Liliana vuoi dirigerti quindi verso gli altri studenti cioè gli altri gruppi che erano al bagno oppure vuoi andare da qualche altra parte io radunerei gli altri direi che gli altri del gruppo quindi sì ok in teoria non sapete proprio dov'è Maya ma potete facilmente trovare Maximilian girando un attimo le stanze non sono così tante a meno che non sono in una stanza singola trovate Maximilian in sala da pranzo solo una cosa mentre siamo appunto mentre siamo ancora nella stanza e stiamo per uscire dico ad ogni modo se vuoi può anche non essere eliminato soltanto questa volta no io tiro su Carlo tu non puoi dirmi no in ogni caso ok intanto mentre ti tiro voglio chiedere a Maya Maya loro più o meno ci hanno messo almeno una decina di minuti prima di finire l'amplesso e tutto tu con la professoressa la dottoranda Adele stai ancora facendo cose oppure posso dire che hai finito ci hanno messo un sacco anche loro a interrogarla comunque sì teoricamente in teoria ho perscontato che voi avete fatto sesto ho fallito sì sì no no puoi usare un filo forse non c'è un filo su di voi sì uso un filo uno dei due fili che ho su Liliana per arrivare a 7 ed è già la seconda volta che devo fare questa cosa incredibile evitiamo le descrizioni molto ampliative sì l'abbiamo fatto io gli devo dare una condizione ad Adele per vedere la mia mostra sessuale è vero in tutti gli altri casi è una condizione che può essere positiva o negativa in base alla prestazione sessuale aspetta 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 un attimo yes è una cosa quando pensi è una cosa questa non si attiva in tutti gli altri casi è una condizione è diverso se è con un mostro o una pelle o con una norma ad essere umano va bene io gli do la condizione passionale ha senso make sense ok ok è stato è stato interessante un po' scomodo perché la stanza era quella che era però ok e più o meno esci da quella stanza più o meno verso lo stesso momento in cui stanno arrivando Liliana e Az comunque in che modo hai reagito alla proposta di di Az perché comunque lui ha provato ad eccitarti e hai reagito comunque positivamente alla cosa non per forza negativamente non proprio disgustata cioè devi scegliere comunque se darmi un filo o una della lista le reazioni tra cui puoi scegliere non so se c'è le mosse base a portata di mano ma puoi scegliere se Nicola sei mutato o perché non ci sono ok ho sempre paura ho sempre paura ci sono pinnate qua su discord ma comunque le reazioni tra cui scegliere mi concedo a te prometto qualcosa che penso tu voglia oppure ti imbarazzi e agisci in modo in facciato oppure naturalmente dargli un filo no se si risveglia dell'altro buono ci sto si può vedere ok prometti qualcosa che penso e che pensi io voglia quindi ok in futuro si potrà ripare quindi qualcosa e arriviamo quindi a a in sala da Tanzo dove c'era Maximilian ad aspettare che Liliana finisse siamo ancora due Liliana tra l'altro eh sì no scusa Maya finisse eh Maximilian ti vede arrivare due Liliana una di fianco all'altra tenendosi anche per male no no e senti dietro di te uscire Maya dalla stanza server non la stanza server dalla sala di controllo mentre si riabbottona la camicia con il capello un pochettino di spatti bene cosa volete fare cosa volevi tirare fuori Liliana vuoi raccontare anche agli altri quello che hai visto in modo tale da mettere insieme i pezzi magari sì allora prima ho avuto una visione ok capita a tutti capita di avere una visione ok scusate lo so però non posso resistere è fuori il mostro e prima di tutto questo mentre arriviamo lì troviamo Maya io sempre con la forma sua non nel mio corpo normale vado subito a baciare Maya immediatamente ok io non capisco che lui che Az è Liliana devo no vado a tirare su caldo prima esatto il fatto è che ne vedi due ma prima che tu possa anche solo pensarci io appunto ah almeno si autocompleta da solo adesso non devo più cliccare ok mio dio ho fatto hai fallito ho fallito malissimo anche oddio quindi vedi Liliana avvicinarsi a te quali sono le reazioni che può prendere il normale su mano quali sono le reazioni che il master può prendere separali avvicinali separali infliggi danno metti in atto misure drastiche ritorcili contro le loro mosse quindi in questo caso io potrei tornare immediatamente me stesso salta alla peggiore conclusione possibile anche questo ci potrebbe stare esponi un segreto pericoloso alla persona sbagliata prendi un filo su qualcuno annuncia l'abisso innesca al sé oscuro e dopo ogni reazione chiedi che cosa fai ok Maya a te non piace il fatto di essere vista come una persona di così frivola diciamo e non ti piace neanche il fatto che una Liliana a caso si stia avvicinando a te con l'intento di baciarti quindi entri nel sé oscuro no sto scherzando sto scherzando sto scherzando mi sembra un po' esagerato ma l'ho visto perché almeno semplicemente Maya vedi Liliana avvicinarsi a te però quando ti avvicina per baciarti tu sei ancora post sesso che hai fatto con l'altra ragazza quindi sei ancora un po' fragile il tuo estinto prende un po' il sopravvento e tipo la ferri per la mano piegandola indietro e praticamente quindi Hads è forzato a ritornare nella sua forma precedente quindi vedi che stai prendendo la mano Hads spingendolo dietro la schiena facendo esatto e diciamo si può considerare anche un brutto ricordo per uno di voi due chi ha più fili sull'uno sull'altro io perdi un filo su Hads perché l'hai aggredito senza riconoscerlo ma non l'ho aggredito vabbè ok ne ho 5 l'istinto ha preso sopravvi io ne ho 3 bene comincia a dividervi ok e dopo questa stronzata Liliana può dirci quello che ha visto quindi quindi Liliana scusa stavi dicendo che hai avuto una visione si quindi visioni attivo poi la collana dico nell'omicidio di Goodwin che tutti voi ricorderete vero me lo ricordate molto prima oh sì sì me lo ricordo c'entra questa collana che ho trovato nella stanza di Leona forse potremmo fare qualche domanda a Leona quindi ok ho capito intanto noi abbiamo parlato con Adele e finisci no no prima prima finiamo di condividere le informazioni ok molto semplicemente lei e il professore scopravano un sacco l'hanno fatto nella loro stanza l'hanno fatto nella stanza di Adele nella stanza del professore l'hanno fatto un paio di volte in bagno e motivo per cui c'è il suo odore nel bagno ah e poi diceva che il professore aveva le ali da farfalla una fata ok adesso io quasi quasi farei fare un tiro su oscuro a Liliana perché c'è una cosa che può scoprire probabilmente no Liliana e Maximus Magnus prima o poi ce la farai a dozzaccare a su sì che è una cosa che potreste scoprire voi e un altro tira invece a Maya e Az che forse c'è un'altra cosa che potreste scoprire voi allora non tirate subito scegliete chi tira dei due perché devo comunque scegliere un tiro solo quindi scegliete se tira Liliana o Magnus oppure Az e Maya in base in base a chi tira poi scelgo un attimo che informazione dare come dare abbiamo tutti più due ad oscuro a parte Maya esattamente quindi uno tra noi tre però io direi siete superati in due quindi vi faccio fare due tiri io direi comunque una cosa Magnus appunto essendo l'arachne dovrebbe mettere assieme i vari fili quindi io gli farei riprovare sì sì no ma infatti in base a quello che se tira Magnus o Liliana vi darò informazioni leggermente diverse quindi dai tirate Magnus e Azza a questo punto immagino questa cosa non me l'avevo scritta mi è già sfuggita di mano di mano 12 a posto ok ok anch'io o aspetto un attimo ok no aspetta questa cosa non me l'avevo scritta la sto improvvisando quindi ci vuole un po' prima che mi ricorda quale informazione mi posso dare che ok si è detto che questo che il professor Davet era un fatato tu ti ricordi di aver letto in un libro su creature fantastiche nella tua magione non mi ricordo se i tuoi genitori erano ricordi aver letto un libro sui fatati in cui si descriveva in particolar modo come i fatati sono in grado di oltrepassare il velo e camminare tra i monti e questo e questo ti fa pensare al fatto che forse quell'incantesimo che qualcuno stava cercando di fare in bagno era proprio un tentativo da parte del professor Davet di fuggire da questa casa di abbandonare l'hotel apocalisse attraversando il velo non so se può tornarvi utile avanti però se devo essere onesto io ce l'avevo pensato però questo significa che la persona che era con lui l'ha tradito e forse significa che si sono teletrasportati entrambi da qualche parte non possono più tornare indietro ok io chiedo Bassa questo tiro quanto è importante secondo te aspetta tu sei Haz fammi pensare a qual era l'informazione che volevo dare su di voi allora può essere importante io ti direi che è un 7 perché penso che voi l'abbiate già capito però più che altro è uno dei poteri per confermare più o meno importante come questo qua di Davet era per vedere se era importante abbastanza da ok non serviva da bruciarci un punto potere da come hanno descritto la situazione l'accaduto i due cadaveri e tutto sei sicuro al 100% che ti tratti di due persone completamente diverse hai hai esperienza anche come slime quindi sai che non è facile cambiare massa fisica ma anche sai che cioè quindi proprie dimensioni ma sai anche che anche cambiare dimensioni non ti renderebbe più forte e per come hanno descritto la situazione per come Liliana ha descritto la situazione l'aggressione violenta nei confronti di Richard anche se non l'ha proprio descritta così però facciamo finta che abbia descritto l'aggressione violenta nei confronti di Richard mi fa pensare che il modus operandi proprio le statistiche di quel personaggio siano diverse quindi sei sicuro che ci siano almeno due asseditori ok e questo era quello che volevo discutere prima ma ho detto prima condividiamo le informazioni le creature che le condividete quindi queste sono due conclusioni che potete raggiungere una creatura grossa quindi ha ucciso Richard però non poteva essere qualcuno che grossa arrabbiata la cosa che mi viene in mente più facilmente sarebbe un lupo mannaro ma non sono sicuro e in ogni caso anche perché loro un po' diventano più grossi quando si trasformano ma in tal caso significa che sarebbe stato superman mi sembra un po' strano perché è l'unico perché è grosso lui di base altrimenti gli altri tra l'altro questo scaggiore una Liliana non ti considero più una possibile sospettata congratulazioni e neanche Adele almeno credo pur sempre il secondo omicidio è vero ci sono almeno due persone è vero però allora vi lascio un attimo pensare come cazzo si chiamava supermano ok discutete tra di voi qualche teoria o cose del genere ok kalel christopher eccolo qua christopher clark che è quello più grosso dei nostri compagni aspetta però se non sbaglio basta aver descritto altri personaggi come come grossi se non sbaglio eccolo qua marcos il suo lecca piedi secondo voi è possibile che il suo lecca piedi avesse una cosa con leona e questo ha causato problemi con richard possiamo chiedergli anche un complottista potrebbe aver avuto paranoia un po' mi dispiace che i tipi sospetti alla fine si rivelino essere i colpevoli però andiamo a chiedere a questa gente cosa c'entrano con questa roba ok basta mi sono ricordato che hai descritto un'altra persona come alto due metri ed era marcos e forse ha dei legami con leona e quindi potrebbe essere stato quello il momento quindi stiamo andando da lui adesso aspettate non c'è bisogno neanche che vi muovete perché il trenino del plot della trama vi sta portando già nella direzione che dovrebbero portare i vostri personaggi nel senso che vi vengono incontro tutti i vostri compagni di classe i professori e tutto e e vi dicono ah bene siete tutti qua stiamo andando giù al terzo piano seguiteci è ora di far luce su questa faccenda e uscire da questa casa stregata ok e mentre state scendendo si avvicinano botta bicia e il professore ha ragione dovremmo fare luce su questa faccenda marcos leona voi due siete legati in qualche modo leona aspetta aspetta ok lo dite mentre state scendendo faccio io le domande marcos potete potete prenderli un attimo da parte mentre state andando in ascensore anzi sapete che cosa visto che comunque l'ascensore non è enorme e dovete scendere almeno a due blocchi di persone voi potete scendere in ascensore insieme a leona marcos e fargli queste domande in ascensore ok facciamo una scena di captain america prima di iniziare qualcuno vuole scendere qualcuno vuole scendere io uso l'ascensore è relativamente piccolo quindi dovete fare tre viaggi voi volete scendere per primi secondi o terzi questa è una scelta importante per primi assolutamente io uso il mio pegno simpatetico che ho di marcos hai anche un pegno simpatetico su leona la sua collana vale come perché non ti serve utilizzarlo se sono di fronte a te sì se non salmodirei in lingue strane no quello lo devi fare comunque come comunque il pegno simpatetico ti permette di farlo semplicemente a distanza se non erro fai vedere pegno simpatetico un oggetto di importanza personale può scagliare fatture c'è lì in due può scagliare poi c'è un pegno simpatetico durante un rituale segreto o incontrare lo sguardo del bersaglio ritartuale non dovrebbe essere segreto quindi non può farlo di fronte è quello ma già c'è sempre non è che come faccio a fargli le domande se non è di fronte a me faccio io no è di fronte a te scusa ma tu tu con il pegno simpatetico cosa vorresti fare vorresti scagliare una fattura menzogne assordanti sì scagliare e basta non serve il pegno no in questo caso ti posso dire non c'è troppo bisogno che fai un rituale particolare stai tenendo il suo pegno simpatetico in tasca in borsa o qualcosa del genere e hai fatto un rituale precedentemente se vuoi sì sì il rituale quindi te lo faccio contare come se lo avessi fatto prima allora l'ho fatto sia per lui che per le ore ok però in questo caso mi devi dire già anche la fattura che scaglierai su Leona in precedenza però non mi puoi cambiare più fattura sempre le menzogne assordanti ok e quindi a quel punto devi comunque tirare però è a quel punto dopo che tu hai scagliato la cosa mi dai almeno un segnale che stai facendo qualcosa perché altrimenti il segnale è che ci parlo io ok quindi quando vi avvicinate quando si sta decidendo un attimo come scendere tutto voi vi fate avanti tenendo per mano Marcos e Leona e obbligandoli un po' a salire con l'ascensore con voi oppure volete chiederglielo con gentilezza non lo so li obblighiamo a salire va bene li obbligate a salire sto pensando quanto fare intervenire altri personaggi ma Reed è già stato insultato una volta da Haz quindi magari se ne sta un po' zitto esatto sta al suo posto niente quindi mentre siete sull'ascensore c'è Liliana che prende il comando che cosa vuole chiedere a Marcos anzi prima mi devi fare il tiro comunque su scuro vabbè anche se anche se sta qua non mi da segnalare niente appena inizia a parlare capisco comunque l'aria che c'è prende l'iniziativa prima del tuo personaggio primo il tasto per bloccare l'ascensore a metà strada allora Marcos a meno che questi deficienti della città più intelligente del mondo abbiano deciso che Evangeline rendeva obsoleto anche il tasto dell'emergenza non lo so no avete il tasto dell'emergenza per qualche motivo ma comunque avrei fatto andare l'ascensore abbastanza piano per darvi il tempo vabbè almeno adesso scusa visto che dobbiamo fare soltanto uno o due piani è l'ascensore più lento del mondo non so se hai visto NCIS ma in pratica ogni volta c'è il capo della squadra di detective che entra in ascensore con qualcuno blocca l'ascensore parlano e poi sblocca l'ascensore e succede anche in altre serie esattamente quello che volevo fare quindi Liliana dicevi scusami hai fatto 10 quindi è perfetta su Marcos hai ucciso qualcuno oggi? oh negli ultimi nelle ultime 24 ore nelle ultime 24 ore perché tecnicamente l'ha ucciso ieri forse Marcos ti guarda e ti dice ma di che cazzo stai parlando non ho mai ucciso nessuno ma ti sembra un serial killer se sta mentendo inizia a sentire un tintinio lacerante è totalmente normale non sembra dar segnale di star mentendo ma certo Marcos tu sei un angelo in realtà quindi sei tu questo che sa Liliana gli altri non si accorgono di niente sembra che stia facendo soltanto una domanda e basta mi sembra molto sincero ragazzi quindi è Leona il colpevole ammettilo Leona li hai uccisi tutti oggi devi tirare anche per lei però anche per lei non bastava un tiro ok no sono due incantesimi a parte no 10 ok hai fatto comunque 10 quindi hai fatto 11 in teoria perché avevi un più uno però no però non è era prima infatti e Leona ti dice no non ho fatto del male a nessuno o almeno non 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 di mia spontanea tua volontà ho ucciso qualcuno di sicuro no ma ti senti bene Liliana non ti sembra di essere è incredibile che continuiamo a sbagliare le persone a interrogare ogni singola volta a sto punto abbiamo interrogato tutti tranne i colpevoli è incredibile allora quasi piangendo ti ho poi la collana e faccio mi puoi spiegare perché è importante questo ragazzi ho capito ho capito sono stati ipnotizzati ragazzi sono stati ipnotizzati e per questo che non sanno dire la verità no va bene ma sarebbe anche non essere coscienti di quello che avevano fatto potevano essere controllati ci sono tanti motivi in realtà ci sono 40.000 skill in questo gioco che fanno cose buffe spiegami questa collana perché è importante è magica non è questa collana spiegami lei ti guarda dice non c'è niente di magico in questa collana e intanto fa ripartire l'ascensore perché Richard la teneva quando è morto perché era in camera tua poi questa collana in che senso Richard la teneva quando è morto Richard non aveva nulla in mano quando è morto questa è la mia collana le faccio io le faccio io blocco di volo l'ascensore e mi trasformo questa è la mia collana d'argento me l'ho regalata la mia famiglia va bene Richard è un vampiro questo ci siamo arrivati da tempo lo può mannare no io io mi trasformo in Richard eh comunque perché va bene uso anche il mio potere elementale per questa scena stituzione mi piace trasformarsi eh o è prima o poi fa cilecca mi dispiace è la seconda volta però che cazzo tanto so ma sta sicuramente questo sia il mio quarto punto esperienza oggi ma state tirando tanto in questa sessione mi piace vedervi come voli ma senti prendiamoci una pausa lasciamo che Liliana faccia il suo tu non sei nell'ascensore siamo soltanto comunque mentre state parlando comunque è sceso giù l'ascensore no sì siete tutti e quattro nell'ascensore beh non è così piccolo l'ascensore comunque l'ascensore avevo capito che ci stavamo in quattro no siete voi quattro più Liliana comunque come va questa vicenda adesso do un contentino anche a Liliana che preferire non finisce da piangere ho fatto due dieci e non ha tenuto nulla scendete arrivate giù fino in fondo Azz cerca di trasformarsi tra se e se ma si vede poco convinto e quando finalmente arrivano arrivate al terzo piano si aprono le porte di ascensore lui è il primo a scendere e che cos'è che succede? succede che Liliana la sentite dire tra se e se questa collana non è magica ma mi è stata regalata da Marid quindi ha un significato ancora più speciale prima che un enorme pugno in metallo colpisca l'unica persona che era uscita fuori dall'ascensore quindi Azz viene scaraventato via da un enorme pugno metallico che lo scaraventa via per tipo quattro metri però sei comunque uno slime non ti fai così tanto male però si vede un danno non ho la mossa che mi fa rigenerare stavi cercando di trasformarti e tutto quindi è un po' più malleabile del solito quindi quando ti tirano un pugno tu ti sei piegato più del solito e prendi un danno siamo a due danni tra l'altro nessuno mi ha ancora curato non vi ho dato neanche troppo tempo per curarvi in effetti e quindi cosa volete fare è arrivato appena adesso un pugno in metallo che era scaramentato via la colpa nostra abbiamo sbagliato e quindi ti sei beccato un pugno in faccia merda dal pugno l'ascensore che una mano di una testa di un essere di tipo tre metri un essere robotico che sembra però un robot uscito dagli anni sessanta non nel senso che è gigante tipo Goldrick intendo dire che sembra un design molto vecchio e tutto finalmente il killer afferra la porta dell'ascensore impedendovi di ritornare io adesso da quanto ho capito mi ha rispedito dentro l'ascensore col pugno che mi ha tirato allora immaginati dalla vista degli altri tuoi amici hanno visto le porte dell'ascensore aprirsi tu uscire dall'ascensore Leona confessare dietro che gli piace Marid e che quello è un regalo da parte di Marid e un pugno enorme che da destra ti ha spinto dall'altra parte della stanza allora io faccio Maya vai così si combatte ok prendete l'iniziativa perché i combattimenti qua sono buffi quindi dovete scegliere voi allora io mi appoggio con entrambe le gambe al muro più esterno dell'ascensore e mi slancio per fargli un drop kick ok minchia dirami pure su instabile all 2 di 6 più 2 6 no più 2 anche ah l'hai contato ok no l'hai contato l'hai contato eh sì ok allora devo ritiro l'1 e non hai peccato che non hai la mossa lottatore esperto perché con quella potevi aggiungere 2 al tiro spendendo il filo che hai su quest'affare da da Leona che ti aveva detto che era grosso tu hai un filo su quest'affare ricordiamocelo roll 1d6 è vero ritiri il più basso si roll ma porca puttana non me lo dà roll roll 1d6 non devi più selezionarlo compare automaticamente compare da solo così non devi più cliccare per fare la cosa scrivi tutto e adesso lo prende da quel che ho visto se non va ecco cioè mio dio bruttissimo quindi 5 più 6 però fai comunque ok fai comunque 7 quindi effettivamente ti riesci a scaggiare contro qualcuno si ma devi scegliere uno dalla lista la lista è prendono un filo su di te lui decide quanto è il danno intendo basta oppure diventi il self score no basta decidere quanto è il danno giusto per giocarci sai che cosa mi sono reso conto che probabilmente questa situazione è peggio di quanto immaginassi quindi ti sei lanciata fuori dall'ascensore tirando un drop keep a questo affare che vedi barcollare indietro e tutto e subire pesanti danni a quello che sembrerebbe un viso o quantomeno delle periferiche ottiche che vedi rompersi e venire danneggiato pesantemente non ci vuole poco che una volta uscita dall'ascensore tu ti renda conto che ci siano altri due di questi robot che stanno lentamente venendovi incontro tra l'altro merda ok prendo as e tutti di nuovo nell'ascensore si ritornano su aspetta prima di quello mentre io sono contro il muro guardo in alto al piano di sopra c'era pieno d'acqua prima quindi vedo tipo delle gocce calare alle tubature e dico chi cavolo controlla questi robot bella domanda ho speso un punto potere per avere un più uno oscuro e dannazione ho intenzione di utilizzarlo prima che questa scena abbia termine 10 chi controlla questi esseri purtroppo le goccioline non lo sanno dimmi comunque la risposta ho fatto il tiro eh sì ma non c'hai i mezzi per saperlo è questo il fatto l'acqua è ovunque non me ne frega il malfattore ha urlato da qualche parte che lo faceva lui e l'acqua ha risentito il riverbero e quindi le goccioline lo sanno ok ma quello che sta chiedendo è chi controlla queste cose qua anche se c'è qualcosa fuori che sia un altro computer come Evangeline l'acqua che cacchio ne sa quello è un computer come fanno a comprendere perché sono in tutto l'edificio tubature che trasportano un qualche tipo di liquido soprattutto se è acqua l'acqua è il punto di vita primordiale della Dea Tiamat che sa tutto è onnisciente emotivo psichiatris cosa? allora l'acqua ti dice che Evangeline no che quello che sta controllando queste cose qui è probabilmente un computer cioè loro non stanno ricevendo segnali organici di qualcosa che controlli queste cose qua quindi non c'è nessuno con un vero e proprio telecomando che sta controllando queste cose qua e questi sono robot vuoti quindi non c'è nessuno dentro questi robot sono controllati a distanza da un computer però non sono non sanno dirti di più su questo computer che sta controllando queste cose qua ok però non è un computer con dietro qualcuno alla tastiera ma è Evangeline Webber dicono che non trovano esseri umani non è neanche esseri umani esseri viventi diciamo che controllano perché comunque le intelligenze artificiali le considero comunque in parte esseri viventi Evangeline ha una coscienza però esseri organici il termine che stavo cercando non sono esseri organici che stanno controllando quindi Evangeline per forza e loro non lo sanno ma cosa c'è Evangeline con la morte del tipo non ne ho idea ragazzi stava sul cazzo anche a lei cioè le intelligenze artificiali possono provare amore in questa campagna tutto è possibile vabbè io prendo ragazzi io prendo az e mi devi fare un altro tiro instabile perché il primo tiro instabile ha fatto abbastanza danno da staccare la draccio al primo robot dall'ascensore quindi ti concedo se volete scappare ma mi devi fare per portare un tiro per portarti via az mi dispiace per fugire proprio lo faccio io dispiacermi ho fatto uno ok Zippo puoi rirollare quello più basso se vuoi che strano adesso questo lancio da D è molto più sfigato è il terzo lo più uno che faccio è un po' strano 4 4 più 3 7 più 2 9 ok che strano mi sa che lasci indietro qualcosa di no non è lei che lascia indietro qualcosa sei tu che lasci indietro qualcosa perché comunque tu hai provato ad alzarti e scappare di tua spontanea volontà fallendo totalmente quindi quello che succede è che se vuoi sai che cosa mentre stai cercando di scappare tutto perché tu hai fallito completamente il tiro fai una scenata nel senso che ti spaventi così tanto che dici lasciatevi qua mi prego quindi ti becchi la condizione spaventato prima che però Maya riesca effettivamente a prenderti dal collo della camicia a sbatterti nell'ascensore più di più di più di questa cosa avrei preferito entrare nel soscuro appassionatamente io non sono mai così vabbè fa niente infatti io avrei preferito entrare nel soscuro a questo punto piuttosto che agire così a post character ok sai che cosa la scenata in fin dei conti non è per forza scelta da me quindi se vuoi puoi scegliere fai tu la scenata come vuoi quindi fare una scenata tipo anche abbandonatemi lasciatemi qua salvatevi voi o qualcosa io onestamente non ne vale la pena facci uscire di qui e basta ah va bene ok ti metti comunque la condizione spaventato senza aver fatto la scenata ok va bene ok As sei leggermente piegato va tutto bene sono stato colpito sono stato colpito da quello che sembra essere un autobus a forma di pugno ok devo dire una cosa perché sei penso che forse muoriremo ho scopato ho scopato con Adele perché perché forse muoriremo oggi io non voglio avere il chiamato perché con Adele tra tutte le altre persone che conosciamo era per ottenere informazioni cioè le informazioni ce le avevamo già ancora prima di aver scopato però siamo andati avanti per necessità mi dispiace che non voglio muoire con questo sul peso sulla coscienza non sono stato colpito così duramente non sono in pericolo di vita però in effetti è una cosa che dovevamo chiarire prima nel caso cioè non abbiamo mai stabilito esattamente boundaries per questa cosa però ho visto che guardi altre ragazze per me non è un problema onestamente e è successo anche qualcosa mentre io e Liliana eravamo da sole io mi sono trasformato in lei e lei mi è saltata addosso giuro che ho provato a resisterle però onestamente mi ha fatto anche un po' pena a un certo punto ti tengo a precisare che questo discorso sta avvenendo in ascensore mentre c'è Liliana e mentre ci sono anche Leone e Marcos yes potete intervenire se volete quindi ti sei fatto scopare per ottenere anche tu informazioni sì in un certo senso sì il problema è che io non ho ottenuto niente a parte il solito ed è Liliana che ha ottenuto informazioni e in quel momento avevo lo stesso aspetto di Liliana quindi è stato molto strano oh ecco perché sei tornato mentre avevi quell'aspetto yes mi ero totalmente dimenticato della trasformazione e mi dispiace no mi dispiace molto dover tagliare un pochettino questa scena scusate mi sono accorto soltanto adesso dell'orario in cui siamo e vorrei specificare una cosa questi esseri qua con cui avete combattuto sono soltanto i mini boss e sono estremamente facili sono i million Naya tu ne hai praticamente quasi one shot uno quindi non fatevi spaventare così tanto ecco vabbè adesso stiamo tornando siete arrivati su con l'ascensore è pieno di robot assassini abbiamo trovato che c'è c'è Jesse che sta dicendo robot assassini di che cazzo state parlando non ci sono robot assassini nel terzo piano sembravano essere stati fatti negli anni sessanta sono grossi robot e forse e pensiamo che qualcuno li abbia utilizzati per uccidere il nostro compagno perché hanno la forza necessaria credimi io so hanno la forza necessaria per rompere una cassa toracica robot assassini degli anni sessanta ok non erano robot assassini nel senso che hanno cercato di uccidermi porca materiali grezzi sono materiali in caso effettivamente ci sia un apocalisse ci sono circuiti cavi cavi in rame in caso ci siano problemi nella base da sistemare provviste o cose del genere non mi pare ci fosse robot assassini non c'è nulla di neanche vagamente simile per quello che stiamo cercando di capire a meno che a meno che quelle cose non siano salite su dal quarto piano il piano in cui c'era evangeline oh qui fa come mecha wings che cerca la parte superiore o una cosa del genere che cazzo sta dicendo beh non lo sapete e notate una cosa molto buffa ovvero il fatto che l'ascensore sta ritornando giù l'ascensore scende giù e potete darti il contato che sta risalendo su con i robot assassini di prima quindi come vi volete preparare ad affrontarli ripeto non sono così tanto pericolosi avete tanti muscoli nella vostra classe in realtà ragazzi mi dispiace per questo momento ma so che una cosa abbastanza personale c'è qualcuno che è molto bravo a combattere tra di voi tipo tutta la classe si gira a torre in realtà non so chi si gira c'è christopher che non è proprio bravo a combattere ma è grosso quanto uno di quei robot probabilmente no vabbè non è vero non raggiunge 3 metri 2 metri è qualcosa però è tipo il fisico di john cena quindi o di the rock john cena quindi potete immaginare che se la possa cavare se fossero come john cena sarebbe un problema perché non potremmo vederli c'è marid che comunque ha un fisico decisamente allenato non so quanto voi vi intendete di wrestling ma è tipo un oh cazzo non mi ricordo più come si chiama randy horton non so quanto c'è il proprio zero ok nintendo di resti i 12 grossi che mi ricordo sono gold no non è grosso randy horton è uno di quelli maybe in realtà ok e quindi marid sapete che ha fatto ha preso a botte tanta gente quindi di sicuro induffo eccettato julie comunque anche lei è bella piazzata albert è di sicuro bravo a nascondersi tra le gambe dei robot forse anche marcos potrebbe combattere ok non dimenticate me sì ma tu è vero eh lo so tu sei estremamente medio in realtà però dai volete prendere anche delle armi da qualche parte il fatto è che significa che sei anche che significa che anche se hai muscoli non li hai mai usati per farci qualcosa se hai instabile più bassa è vero ma se volete a due di voi do delle armi che ti danno più uno instabile per questa scena diciamo io vabbè diciamo che fanno qualcosa di magari fanno un danno extra in realtà le armi mi sa mi fa che fanno il danno extra scegliete due che prendano le armi io ok prendete velocemente quindi uno scopettone in metallo e un l'uccidatrice un pezzo di tubo che si era staccato da qualche tubatura lo staccate in fretta prendo io lo potete utilizzare lo dovrete utilizzare molto velocemente probabilmente perché Bim Blom è arrivato sull'ascensore e da questo ascensore escono fuori tre grossi robot va bene allora carichiamo ok tocca a chi tocca adesso io io colpisco con un pugno il bastardo che mi ha per vendicarti e so qual è perché mi aveva danneggiato quindi lo riconosco sicuro di voler utilizzare un pugno cioè sì sono sicuro di voler utilizzare un pugno devi scegliere però una imparano qualcosa sulla mia vera natura perché quando tiro il pugno mi liquefo il pugno e entro all'interno degli ingranaggi sfottendogli tutto all'interno vaffanculo senti il potere dell'acqua sì mi immagino molto anche come Miss Marvel non ho visto ancora la serie tv però ho visto il trailer in cui tipo ti si allarga anche il pugno quindi diventa anche più grande no perché se così fosse lo vedrebbero anche i miei compagni no io tiro il pugno e tipo dove faccio contatto si infiltra all'interno ok quindi effettivamente lo riesce a colpire però imparano qualcosa su di me appunto esatto e ti ricordo che uno dei tre è quello con i visori ottici che sono stati danneggiati ed è quello che colpisco perché è quello che ha colpito me è quello che Magia ha rovinato effettivamente lo vedi rallentare dopo il tuo colpo bene basta io ho già tirato ha fatto 13 ok senza nemmeno tirare se mi vuoi dire chi dei tre è voluto attaccare quello di Ase è ancora in piedi per poco sì quindi due di sei più uno no più zero più zero no l'arma sì ma te la conto come dono extra ti faccio dono extra con quell'arma ok allora è sempre più zero allora eliminiamo una minaccia alla volta attacco anche io quello che ha solito Anse l'ho dimenticato l'air roll quindi tu hai colpito di quello di Ase sì mi vuoi dire anche come l'hai colpito va bene quindi gli stacco un braccio a forza e lo colpisco con quello oh Cristo sì gli stacco un braccio a forza e lo colpisco lo colpisco sui visori ottici con quello ok mi ricordavo che il tuo fosse uno dei due personaggi che avesse preso un'arma ma a quanto pare voleva comunque strafare straffando un braccio e effettivamente lo vedi che dopo il tuo attacco congiunto con Ad le luci che prima aveva negli occhi si spengono e cade a terra completamente io non ho preso un'arma ho un più due di base i pugni fanno un solo danno di norma quindi ti potrei prendere un'arma prendere un tubo mentre invece Emma tu hai fatto cinque più l'aggiornato aggiuntivo sei no non è comunque qualcosa che potresti aggiungere magari no in realtà forse aveva un più uno a oscuro che gli era rimasto indietro quando abbiamo fatto il tiro quello che vi ho fatto fare per scoprire le cose l'ho fatto fare a te Ad quanto avevi fatto tu? quello che aveva fatto scoprire che Davet aveva fatto tutti tanto avevamo fatto tutti tanto aveva uno prossimo in teoria potresti aver già fatto sei però non è niente no quindi è inutile continuare a parlarne come dicevo quindi purtroppo tu ti sei avventato contro uno di questi qui che non sembra risentire molto dal tuo intervento e anzi allarga la sua grande manona e anzi alza il piede e schiaccia con il piede la gamba di Giulie e stava lanciandosi anche lei contro io non voglio farvi prendere troppo danno tra di voi e avrete bisogno anche dei vostri compagni durante la boss fight quindi Lidiana fa qualcosa Lidiana prego cosa vuoi fare Lidiana cioè tira un pugno puoi letteralmente impedire a uno di loro di farci male ma continuano ad utilizzare la magia di fronte a noi non posso se vuoi abbandonare il tuo segreto puoi bloccare uno di loro volendo altrimenti potresti provare a usare qualche boss a base in maniera creativa con che fattura è che potrei bloccarle legaccio ma è una persona non sono persone loro esseri viventi in generale si stanno muovendo per farci del male quindi vabbè comunque se vuoi o in caso puoi mantenere il controllo per ottenere poi anche un punto aggiuntivo il prossimo turno poi puoi provare addirittura anche a tirare le fila per cercare di tentare uno dei tuoi compagni magari a fare quello che vuoi tu ed essendo il PC non si rifiutano esatto quindi non mi ricordo se avevi tipo ancora qualche tiro su Marcos o che ne so su Christopher che potresti utilizzare tipo per mandarli contro chi vuoi tu oppure anche Marid o qualcun altro personaggio secondario in generale oppure puoi sempre scagliarti addosso a testa bassa puoi provare a cercare di spaventare una di questi robot anche se è improbabile forse provando a gelarli è un combattimento di cuore di mostro dai non è che trovi molto roleplay quindi fai cioè se i miei amici stanno morendo uso legaccio non stiamo morendo siamo messi piuttosto bene a parte me perché nessuno mi ha ancora curato mi ricordo anche ipoteticamente potresti curare az però non sai che non so se niente per curare l'unico che può farlo nel corso di un combattimento è Magnus che ha tre fili su di me e l'abilità di curarmi spendendo fili io allora proverei andare a aiutare az in realtà magari cioè invece di fare legaccio provo a tirare l'attenzione del robot su di me ti conto questo come un 1 prossimo ad az al prossimo turno ok ok e così dico è un attacco combinato tra voi due diciamo giusto oppure faccio fare un danno in più ad az in caso tu riesca a fargli danno io avevo intenzione di spendere un filo per dire a Marcos renditi utile per una volta visto che è grosso anche lui ma quanto l'avevo fatto grosso perché io non mi ricordo che era tutto sto grosso era un altro tizio alto due metri ah sì è un ragazzo abbastanza grande wow non me lo ricordavo così grande eh anch'io mi ero totalmente dimenticato finché non mi è tornato in mente ah me ne ero anch'io totalmente dimenticato come no chi è che ha tirato scusate nessuno ha tirato ha detto che spendeva un filo un filo direttamente ok quindi Marcos fa abbassa la testa e carica uno dei due mostri diciamo che uno di quei due mostri anche se voi fallirete totalmente i tiri non vi attaccherà ok bene allora vado io vai quello conta come la mia azione o posso fare anche qualcosa facciamo che questo conta come l'azione che ha permesso di fare Liliana no che cazzo è l'azione che mi ha permesso di fare nel senso che più che altro è Liliana che per loro a Marcos al posto tuo in modo tale che poi hai un altro turno da fare vabbè hai prestato in qualche nuovo un filo a Liliana è 4 più 5 più 2 11 superato di sicuro il danno ok un danno pure extra dimmi pure vai quello su quello su Marcos oppure sull'altro ok Marcos quello con Marcos lo afferro per una gamba e lo sbatto contro l'altro ancora attivo ah ok quindi te lo considero come split damage fai un danno entrambi davvero hai pensato una cosa del genere ok va bene effettivamente bar collar lo hanno entrambi li vedi un attimo esitare si vede che i loro circuiti stanno cercando di riprendere un attimo l'equilibrio far tenere i robot in equilibrio è in effetti difficile soprattutto se sono bipedi ok io visto che non ho più l'uno prossimo ho fallito lasciali fallire perché con questo fallimento ho 5 punti esperienza e posso prendere una nuova mossa ho fallito così tanti tiri in questa sessione che è incredibile va bene pallirai però in realtà non penso ci siano conseguenze negative la combinazione di Marcos e il bel tiro di di Maya ti hanno parato il culo in maniera incredibile ok magnuk devo eri prego l'android qua in piedi ce ne sono ancora due che sono bacollanti ma sono ancora in piedi ok provo a colpirne uno ok stavo per prendere plastico perché così le mie ferite si riparano da sole ma ci vogliono ore perché succeda quindi non è la mia ferita tu hai fatto sei porca vacca sempre sei che sfiga della madonna che parla purtroppo però non succede così tanto anzi questa volta è un fallimento devo farlo fare a qualcuno fa me vedere a chi farlo fare però questo fallimento scusate guardo un attimo ok ok succede qualcosa qualcuno entra nel cielo scuro vedendo la situazione che si sta facendo un po' problematica vedendo come sia Azz sia Magnus stanno avendo problemi vedete Christopher diciamo allargarsi ancora di più era davvero lui se non era Marco sarà lui ma non volevamo crederci aspetta un secondo devo vedere una cosa però che non mi ricordavo di ho fatto un errore però non avrei dovuto dire che ecco infatti ho fatto un po' una cazzata però si può sistemare in qualche maniera immagino vedete Marcos no Christopher allargarsi più del solito vedete i suoi vestiti bruciargli addosso e vedete scaraventarsi Christopher contro uno di questi golem questi robot e tutto mentre tipo le sue mani gli appondano nel petto di uno di questi golem e il metallo si scioglie intorno al suo corpo quindi è un elementare del fuoco un rider che cazzo è eh già e questo è quello che succede qualcuno ha perso il controllo effettivamente non è uno di voi eh Liliana che cosa vorresti fare tu lo considero comunque un danno su uno dei due robot hai appena visto Christopher lanciarsi su uno di quei due cosi sciogliendogli il petto praticamente a metà Nicola? onestamente la cosa di è crashato la cosa di è crashato sì ora ok ma è lui quello che ho visto nella visione eh boh non hai idea la visione era confusa hai visto qualcuno di grosso però non sarei in grado di distinguerlo sì tra l'altro mi sono dimenticato un'altra delle cose che ci avevano fottuto nella campagna di bassa precedente ovvero le visioni che ci mostra di solito sono false e sono soltanto l'idea di quello che è successo davvero quindi potrebbe non c'entrare niente potrebbe voler dire Christopher voleva fare qualcosa voleva discutere con con cosa di qualcos'altro ma in realtà era un bastardo e è successo qualcosa del genere possono essere interpretate in effetti le cose che faccio io una cosa che puoi essere sicuro è che la visione era molto più violenta e c'era più rabbia che violenza qui non ti sembra così tanto arrabbiato come come nella visione la visione era molto più arrabbiata ancora quindi può essere lui o di sicuro è grosso non lo puoi escludere a priori e non abbiamo tempo di pensarci esatto io aspetto che finiscano chiamo l'ascensore intanto ok l'ascensore è lì in realtà ha portato sui robot ok considero quindi Liliana sempre come supporto morale ad ads e adesso anche ads ha un'arma diciamo grazie non mi servirà ok perché perché la nuova mossa che ho preso visto che mi sono rotto i coglioni è maestria elementale quindi io adesso creo uno tsunami dal nulla e questi robot li spascio porca muttana è vero non farlo sei in un luogo contenuto in una base sotterranea tranquillo l'acqua deve andare da qualche parte sono un elementare la tiro fuori dei tubi la rimetto nei tubi se voglio ne estraggo direttamente dall'aria se voglio allora questi cosi avranno di sicuro delle sospensioni idrauliche o qualcosa del genere qualche tipo d'acqua ce l'avranno dentro il loro sistema di raffreddamento o qualcosa del genere qualcosa puoi magari farlo esplodere dieci grazie al cielo aspetta maestro elementare che cazzo faceva maestro elementare tiro su potere e faccio quel cazzo che voglio fin tanto che tu me lo permetti è così che funziona è letteralmente quello che c'è scritto ok che cosa vorresti fare è davvero lo tsunami lo tsunami proprio tsunami tsunami non te lo permetto però ti posso promettere un controllo più moderato dell'acqua ok allora sai prima quello che ho fatto inserendo il mio pugno dentro il tizio in questo caso ci vado giù più pesante perché ho imparato a farlo meglio e quindi praticamente genero un getto d'acqua all'interno però una di quelle correnti forti questo davvero spacca cose all'interno ok una specie di non è laser d'acqua però è comunque sì sempre una di quelle che viene utilizzata per tagliare acqua ad alta pressione ok immagino utilizzare un getto d'acqua ad alta pressione contro un computer hai utilizzato quindi anche uno dei tuoi poteri e uno dei tuoi slot e adesso sono a zero posso fare ancora un tiro di questo tipo prima di andare in esaurimento hai fatto dieci e ti dicevo che in teoria considero Liliana come un supporto di un'arma quindi ti faccio fare due danni comunque dimmi soltanto quale dei due preferisci attaccare quello che sta attaccando in questo momento quello del solo va bene ok è ancora in piedi comunque però vedi che traballa è molto lento c'ha un buco nel petto abbiamo mai Marcos sì è vero c'era anche Marcos in effetti di quel robot che lo stava tenendo per un braccio che ha visto questo getto d'alta pressione che gli ha sfiorato il braccio 13 di nuovo dimmi come ne vuoi distruggere uno va bene dimmi quale vuoi distruggere quale dei due hai messo no quello di Marcos non lo tocco quello di Marcos è bello distrutto ma anche quell'altro gli sta aprendo il petto a metà cristo per va bene quello non di Marcos quello di Christopher quindi ok va bene molto semplicemente a modi cheerleader gli gira intorno facendo una spaccata per passargli al di sotto e poi da dietro infilo la mano nella sua schiena e strago qualsiasi cosa sia il suo cuore la sua schiena madre qualsiasi cosa abbia che lo faccia funzionare probabilmente la testa e dai facciamo la testa non voglio farli troppo complessi questi robot dai è un fantasy quindi gli passi dietro e gli strastipi via la testa del corpo uccidendolo decisamente vedendo com'è la situazione all'ultimo sentite l'ultimo robot dire la frase sequenza di autodistruzione in corso autodistruzione in dieci secondi è il turno di Magnus cosa vuole fare il signor Magnus questi dieci secondi li interpreto come dieci azioni da parte vostra non è vero le dieci azioni sono un po' tante infatti da fare le dieci secondi c'è rimasto soltanto un robot in piedi il robot che ha il petto trapassato da un potentissimo getto d'acqua ed è bloccato a un braccio da Marcos che a quanto pare si sta per autodistruggere distruggetelo prima che si possa autodistruggere è semplice può essere un'idea volendo vi ricordo se avete magari il freddo alto se volete fare un tiro per mantenere il controllo e chiedermi come distruggerlo si può anche fare così qui sono l'unico ad avere freddo alto e io ho già fatto la nostra tiragli un pugno e basta dai su provo provo non può autodistruggersi se non è più operativo provo a prenderlo ammazzato invece è così come se fosse nitroglicerina lo shakeri e quindi esplode più facilmente caput alleluia 7 finalmente effettivamente una volta che lo colpisci esplode no scherzando non sono così stronzo ho voluto essere misterioso un po' con le intuizioni ma questi qui li fate effettivamente fuori facilmente infatti anche tu riesci a far saltare la testa con il tuo il tuo il tuo il tuo il tuo il tuo tubo di ferro si e una volta saltata via la testa vedi che dice no e si spegne vuoi dar presentato che quindi il sistema di elaborazione si sia spento in qualche maniera ok Christopher cosa cazzo sei? sto pensando che c'era un dettaglio che mi sono dimenticato di inserire dentro che però mi sa che non ve lo faccio più perché stiamo ne mettendo troppo capita Christopher che cazzo è Christopher? il Christopher ha preso molto fuoco vedete il fuoco spegnersi intorno a Christopher ma cioè nel senso non si propaga più stile torcia umana più o meno ma vedete ancora delle fiammelle flicherare lì sul tetto e dice e dice sono stanco di questo hotel di merda sono stanco di che cazzo sta succedendo e di non capire che cazzo succede ma lui non era quello schiattato no lui è quello grosso e buono in teoria adesso vado al quarto piano e qualsiasi cazzo di cosa ci sia là sotto me ne occupo io entra dentro l'ascensore e schiaccia il pulsante per scendere c'è Albert che gli corre incontro gli dice Christopher cerca cerca di calmarti per favore così cerchi soltanto di rompere l'ascensore rischi soltanto di rompere l'ascensore per favore non distruggere un pezzo di Eureka mio padre mi ammazza se distruggi l'ascensore e sale immagino anche lui sull'ascensore vuole salire qualcun altro sì salgo io cioè più o meno ok facciamo che voi quindi scendete per primi io vado dal cazzo di Marid eh? io vado da Marid ok intanto che tu vai di Marid e parlate ti dico cosa succede in background succede che Albert riesce a far rallentare un attimo Christopher farlo pensare in modo tale che tutti quanti possano scendere al terzo piano tu a quanto pare prendi in disparte Marid immagino lo confronti davanti a tutti non me ne frega più un cazzo a sto punto dico l'unica persona che non abbiamo ancora considerato per l'omicidio di Richard sei tu e lo so che c'è un po' di pregiudizio in giro beh c'è anche Rodney che ci penso quindi dopo di te probabilmente andrò da lui però a quanto pare tu hai dato una collana a Leona quella collana ha qualcosa a che fare con la morte di Richard ed è stata trovata nella camera di Leona quindi che cazzo di merda sta succedendo qui e cos'è successo con Richard e ho fatto quattro vaffanculo fuck my life no ti prego dimmi che hai qualche skill da utilizzare ah si posso dargli un filo che pirla l'avrei fatto sicuramente quindi è un sette ok mi prendo mi prendo una condizione però lui prende mi serve quel filo scusa prendo un filo su di me io ho più tre quindi arrivo a sette più tre addirittura ok che mossa stai utilizzando giusto per sicurezza è caustico ok no ma quale mossa base è gelare qualcuno quindi prendo una condizione ok tu prendi la condizione aggressivo immagino minchia arrabbiato anzi fai arrabbiato no dammi violento è una cosa che ho fatto molto vabbè può essere anche visto come violento alla fine non mi cambia così tanto così eccitante quando si arrabbia però e ti danno in cambio allora tu devi scegliere uno certo quindi che cosa scegli in teoria allora gli do la condizione omicida ok 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 perché al momento le nostre prove vanno su di lui le nostre prove andavano anche su Adelia andavano anche su Leone andavano anche su Marcos però a sto punto le prove più recenti andavano su di lui e io mi sono stufato ok lui si avvicina al tuo orecchio e ti dice sì ho ucciso io quel mostro di merda yes ho risolto il caso ho risolto il caso e sinceramente non ci trovo così tanta qualche problema in fin dei conti era un mostro meritava di morire e visto che a quanto pare non è l'unico se non ti dispiace vado a occuparmi di quell'altro di quell'altro mostro che è appena comparso oh ma cazzo è vero io ho fatto tutto di nascosto non sa che io sono ok ma non ti preoccupare magari dopo torno anche un attimo su di te ah io gli tiro un pugno e fallisco ok lui afferra facilmente la tua mano cercandotela di spezzare dipende vuoi che la tua mano si spezza o vuoi che diventi malleabile perché tu sei uno slime in teoria puoi controllare fino a certe parti del corpo io non ho mosse del genere in realtà è soltanto una cosa non mi ricordavo se avessi una mossa del genere è soltanto una cosa narrativa quindi lui ti prende la mano e te la spezza se metti un danno prima di salire sull'ascensore e scendere giù da basta sono sempre più vicino a diventare il mio cielo scuro finalmente e potete fare 2 più 2 pensando che probabilmente il mostro a cui si riperiva adesso Marid è Christopher quindi hai davvero messo un venator nella storia dopo che ho creato dopo che ho creato la pelle perché questa pelle non esisteva nella prima sessione l'ho creata dopo le vacanze lo scoprirete alla fine della campagna non voglio perché ci sono ancora così tanti segreti cioè in realtà ho una scosta apposta quindi voglio dirveni solo alla fine per non perdere tempo dico questa cosa agli altri poi scendiamo al secondo giro di discesa dell'ascensore a sto punto io sono sceso al primo giro shit è vero lei è già scesa giù da basso ok arriviamo dopo e lo diciamo anche a te e una volta che scendono tutti gli altri però vi si para davanti il terzo piano il terzo piano che prima non avete avuto occasione di vedere sarebbe dovuto essere il piano magazzino il piano di petti di ricambio per l'aria filtri per l'acqua era pieno di strumenti meccanici in generale per far funzionare idealmente l'hotel apocalisse per migliaia di anni tutto questo non c'è il terzo piano è completamente vuoto l'unica cosa che vedete è una scalinata che porta giù verso il quarto piano davanti quella scalinata c'è un christopher che sta per scendere il più in fretta possibile tra l'altro interessante è una delle poche cose dell'hotel che è rimasta come nei vecchi tempi ovvero è una scalinata scavata nella roccia come se fosse tipo una drotta di montagna vedete richard richard vedete christopher che sta quasi per buttarsi giù da quella scala vuole scendere il più in fretta possibile al quarto piano e albert che cerca di calmarlo e farlo ragionare e far avvicinare far venire anche gli altri compagni e un marid che si sta avvicinando con fare molto minaccioso a christopher io urlo marid ha ucciso richard ed è una e sta andando devo dirlo sta andando per christopher christopher guardati le spalle cazzo ok effettivamente vi accorgete di christopher si accorge di questa cosa si gira ma è ormai troppo tardi con una forza che pochi avrebbero considerato umano a quanto pare anche marid è una pelle di qualche tipo chissà che come mai il genatore prende mosse da tutte le pelli e anche i loro sei oscuri in realtà quindi aveva senso ci avevo pensato il genatore tira un pugno molto forte allo stomaco di christopher facendolo volare direttamente giù dalle scale al quarto piano fantastico vai così se solo qualcuno potesse usare il legaccio vi chiederei gentilmente di farmi un test di tutti quanti instabile almeno tutti quelli che vogliono correre al quarto piano tutto per fare un test più che altro iniziativa quasi per capire chi arriva prima chi arriva dopo e tutto finalmente un tiro bello di instabile l'ho fatto proviamo 5 mio dio puoi ritirarlo sì pensavo fosse il tiro di ema ho detto cazzo ma ema è una sfiga micidiale oggi voglio non gufarmela ok adesso vado io mio dio quindi 8 9 8 e 2 stupendo madonna ma che sfiga 9 8 6 2 basta perché non stai zitto ma ho detto gli consiglio ad ema di aggiungere un più uno a instabile perché so che si combatterà parecchio oggi ma è una sfiga incredibile cioè a volte quando ti va male ti va male Nicola se mi vuoi tirare anche tu se vuoi precipitare ha fatto 6 9 8 6 e 2 questi qui non contano come fallimenti né niente contano più che altro come iniziativa per me personale così so chi far mandare un po' per primo a quanto pare Az era quello che si aspettava di più la situazione tutta io stavo già letteralmente correndo per raggiungere Christopher infatti e infatti non li sei particolarmente dietro cioè particolarmente lontano una volta che Christopher è caduto e tutto Marid lo insegue e quando Marid arriva al fondo delle scale cioè quando arrivi tu al fondo delle scale ci sono Christopher che sta prendendo fuoco Marid che ha tirato fuori da qualche parte una spada pallottole d'argento una spada non sai se è un'arma da fuoco no no pallottole d'argento il nome della mostra del venator che ti dà un'arma da utilizzare contro i mostri ok non me lo ricordavo però c'è qualcos'altro in questa stanza qualcosa a cui a quanto pare Marid e Christopher non stanno prestando abbastanza attenzione teste di cazzo la stanza com'è composta è una stanza a rettangolare in cui a tutti su tutti i due lati della stanza ci sono delle capsule vere e proprie di tipo tre metri piene d'acqua con dentro delle persone avete visto il film il primo film dei pokemon quello in cui c'è la capsule dove c'è dentro Mewtwo madonna che era inquietante quel tipo in è vero oppure tipo in Agent of Shield la capsula durante la terza stagione in cui erano stati messi dentro da quell'intelligenza artificiale bionda di cui non mi ricordo il nome per essere vicini vabbè sono le tipiche capsule ce l'abbiamo presente fantasy scientifiche in cui le persone vengono messe dentro in spasi sono piene di cavi e tutto e in una di quelle capsule vedete il professor Davet da in fondo alla stanza c'è il computer di evangeline sembra totalmente spento ma oltre il computer di evangeline c'è qualcosa di un po' più inquietante forse che sta attirando la tua attenzione che è un cubo che quanto sei intelligente tu in questo mondo non mi ricordo io sono piuttosto intelligente ok quello non è un normale cubo è un tesseratto probabilmente è un cubo che sta continuando a muoversi continuando a cambiare dimensioni e non ci vuole tanto perché tu capisca che probabilmente quella è la fonte di energia di cui parlava Albert e che probabilmente alimenta evangeline e l'intero hotel e quel cubo lì non sembra inserito dentro il mainframe di evangeline il cavo che li collega è totalmente scollegato è un cavo in uno che li collega ed è scollegato sta alimentando qualcos'altro al muro dalle pareti in fondo dove ci sono il computer di evangeline e il tesseratto che lo alimenta cominciano a uscire fuori altri androidi o cyborg no sono androidi sì sono androidi molto molto più avanzati rispetto a quello che avete visto prima sembrano quasi delle dei manichini però posso avere la plastica sono in metallo e per ora ne escono quattro e vi stanno correndo contro o almeno stanno correndo incontro a Christopher e Marid se vuoi puoi farmi un tiro per mantenere il controllo e cercare di farvi qualche buona sì comunque se non si era capito questa è la boss fight non abbiamo tempo di farla ho fatto 11 prendo uno prossimo e posso farti una domanda distruggere il tesseratto lo risolverai in qualche modo questa situazione più in fretta allora puoi arrivare alla conclusione che distruggere una ponte di energia così ha problemi incredibili puoi fare 2 più 2 però per capire una cosa qualsiasi cosa abbia staccato quel tesseratto da Evangeline probabilmente la voleva offline quindi puoi pensare che Evangeline in qualche maniera cioè probabilmente non è così oh mio dio forse ho capito ed è da una puntata di Eureka che Evangeline è costruita su un'altra IA precedente che però era cattiva che li intrappolava nella casa e faceva esattamente questa cosa hai una domanda a disposizione e non mi ricordavo quell'episodio che mi è venuto in mente adesso ok stupendo 2 più 2 però pensando che quindi staccare quella spina e forse attaccarla a Evangeline potrebbe essere la soluzione più urba ok bene urlo riattaccate la spina di quel cubo ad Evangeline e mentre lo fai vedi scendere dopo di te anche Mia e Maya scusa e Liliana Magnus è ancora un attimo indietro naturalmente scendono anche altri vostri compagni scendono giù Albert era alla fine sopra le scale quindi riesce a scendere anche lui gli altri sembrano molto interessanti quindi scende anche la professoressa Adele forse la dottoranda Adele c'è anche poi gli altri arriveranno dopo no questi sono quelli che erano già nei prezzi gli altri forse arriveranno dopo sai cosa non scende neanche la professoressa Adele facciamo che scende soltanto Giulie e Albert non so se il mio potere suggerisce una tale cosa ma io direi test instabile Maya per scattare riattaccare la spina e concludere questa cosa subito e siamo a mezzanotte 20 allora ditemi voi se voi ve la sentite dichiararla ancora un po' per le lunghe oppure preferite tagliare un'altra volta cioè è rimasta soltanto la boss fight in teoria secondo me in un quarto ad ora possiamo anche farcela a me non dispiace io in un qualche modo devo tirare su instabile adesso non sento abbattanto opposizioni quindi andremo avanti per ancora un po' no interrompiamo a me va bene anche andare avanti se no faccio correre il mio personaggio e scollego il cavo bisogna collegarlo però collegare collegarlo a me bene bene si conclude qua la sessione di oggi quindi per il momento non so se vogliamo riprenderla poi settimana prossima settimana prossima finiamo almeno la mia missione di Urammer perché poi appunto decola non c'è dalla settimana dopo in realtà io non ci sono per una settimana alla fine si è vero però volevo farla perché poi non ci sono io invece le cose iniziano a complicarsi riusciamo a continuare domani sera questa giusto per fare il finale per me potrebbe allora domani sera un po' un problema per me no ce la posso fare ce la posso fare che partono poi i miei ma sono già partiti probabilmente quindi per me si potrebbe fare io vi dico secondo me mezz'oretta forse massimo un'ora e si chiude perché c'è davvero il combattimento finale e poi basta cioè c'è in realtà i saluti nella serie voi che uscite dalla saluta d'inferno e cittadini di euro e cacca di bro oh mio dio cosa è successo probabilmente li attaccherò insieme a questi episodi anziché farli separati perché tanto non è ancora uscito niente di questa ventura nel caso farebbe bene a terminare subito la registrazione in modo da non lasciare un pezzo troppo lungo nel mezzo ok allora continua ancora ricordiamoci di domani di fare ancora così quando riniglia sì eccoci qua speriamo che sia uscita bene questa gag io che continuavo a rotolare spero che abbia funzionato organicamente bene torniamo a dove eravamo Emma si è perso a cercare il suo gatto che è andata sui balconi dei vicini non sappiamo quando tornerà ecco io questa la interpreto come il fatto che Emma vuole più bene al suo gatto che a noi se volevamo qualcuno che tipo gli tirasse i graffi e lo insultasse già lo potevo insultare anch'io e sono bravo a insultare le persone non ho un buon rapporto con i gatti ho un buon rapporto con i cani invece sono più un animale è una persona da cani comunque lo stiamo aspettando da tipo un'ora quindi saltiamo un po' i convenevoli e ritorniamo da dove eravamo rimasti la scorsa volta la scorsa volta siete riusciti a scoprire che Marid effettivamente era basta che cazzo fai il riassunto li metto insieme i video va bene ok è vero anche questo è vero quindi riprendiamo direttamente dove eravamo rimasti il tesseratto io che avevo detto vi attaccate quel cavo esatto mi ricordo che eravate scesi in cantina tu sono scesi anche Liliana e Maya sono scesi anche Julie Albert se non sbaglio e c'erano naturalmente Marid e Christopher che stavano facendo a botte stavano per iniziare a fare a botte quantomeno e Christopher andrà giù praticamente subito perché è coso la pallottola d'argento quindi la sua arma è fatta apposta per ammazzare le mostre quando però vedete appunto quattro androidi non so mai se androidi è il termine corretto da utilizzare uscire dalla parete in fondo alla stanza e correre l'incontro in pratica se non mi sbaglio Az aveva già fatto qualcosa e quel qualcosa era urlare riattaccata col cavo quindi darei spazio adesso a Maya e Liliana perché c'erano un turn order avevano fatto se non sbaglio noi siamo alla stessa stanza con il cacciatore di mostri cacciatore di mostri i robot il tesseratto il computer il cavo che ho detto di attaccare e le tanniche piene di a quanto pare il liquido con dentro persone magiche ma allora ai robot ci pensate voi non posso farci nulla con chi è che se l'è presa il tipo dei mostri con Christopher esatto con Christopher il tizio grosso Superman che ha preso fuoco la scorsa volta e no io io vado contro Mar oddio com'è che si chiamava Marid 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 ok vado contro Marid non avevo tirato fuori le mosse mie comunque lancerei una fattura puoi farlo sì perché no ok ok stavo pensando che gliela lanciassi con il pegnetico mi sono dimenticato che in realtà puoi lanciarle anche senza pegnetico ormai siamo tutti mostri qua dentro quindi non è che sia più importante una cosa una cosa che purtroppo ovviamente Nicola non sapeva perché non ha mai letto il manuale e si è visto nel modo in cui ha giocato il suo personaggio è che il manuale ti dice prendi dei rischi non giocare in maniera troppo cercando di stare troppo al sicuro tu hai tenuto nascosto la tua pelle fino all'ultimo secondo in pratica invece è anche quello un modo intelligente il suo personaggio è quello più canato tra tutti noi è fastidioso quando nelle serie tv sul personaggio che ti ha nascosto i suoi poteri poi gli rivela l'ultimo che passa a caso è una cosa importante e si tiene nascosta fino alla fine l'arma segreta non si rivela nelle carte finché non si è visto il banco finché non si scopra con qualcuno poi dobbiamo finire quel discorso comunque di te perché dobbiamo ancora stabilire se ci siamo traditi a vicenda o se ci sta bene la cosa c'è un po' di tensione comunque tira pure il suo scuro prima che fattura di tiro avvizzimento non può bloccare cioè devi usare le gacce ti metti i pesi da ammazzare qualcuno o può essere tanto forte da devi usare le gacce per forza è solo le gacce è fatto apposta e non lo so magari avvizzimento è come avvizzimento sul richiamo di Ktun che analizzi molto lo sciogli in teoria anche illusioni può funzionare sì anche illusioni però le gacce è più immediato esatto di oscuro ok ok hai una tua interpretazione personale di legato una maniera in cui si mostra o vuoi lasciare a me l'interpretazione pensavo a una catena e basta ma se tu hai qualcosa di meglio di la visto che ti stavi riferendo a Ktun pensavo invece dei tentacoli che uscissero dal terreno e lo avvolge dei tentacoli scuri per ricollegarci al suo corpo non lo so perché magari tu vuoi essere tipo una strega di Ktun così ci ricolleghiamo anche ho visto molto poco dei tuoi poteri quindi puoi farlo volendo ricolleghiamo anche al tuo discorso di prima che i fan non hanno sentito sul fatto che ti mancano i porno con i tentacoli è vero avevo rimosso che ne avessimo parlato non vanno più di modo quindi lanci i tentacoli avevo impostato il personaggio per come essere uno stregone di Ktun devi scegliere uno però perché la fattura non è perfetta devi scegliere se scagliarla ti causa un danno la fattura ha effetti collaterali strani oppure innesca il tuo seo scuro io non so cosa sia se è oscuro del tutto significa la sede del tuo personaggio significa che sei utilizzato a essere stronzo è la versione peggiore del tuo personaggio in pratica incarna la versione più oscura di quella pelle per esempio per un lupo mannaro è tirare fuori la bestia per un non ho più esempi per un bigfoot per un sapato ok vai tu col bigfoot no per un bigfoot è tirare fuori la bestia no mettere così e fai lo stronzo se sei un ghoul diventi famelico se sei un vampiro diventi per la strega è descritto come il tempo l'ho letto l'ho letto io farei questo se è oscuro ok una cosa che però forse ti tenendo sapere prima di scegliere questa cosa qui è che il seo scuro ti para una volta la vita quando muori del tutto quando perdi tutti i danni quando prendi tutti i danni ti rasenti la morte puoi scegliere due cose entrare nel seo scuro e curi tutte le tue ferite oppure cancellare tutti i tuoi fili e curare tutte le tue ferite quindi se sei già nel seo scuro puoi soltanto perdere tutti i fili per non morire esatto quindi a volte il seo scuro può essere utilizzato anche come l'ultima spiaggia tipo haz può essere comodo aver tenuto un seo scuro da parte perché usarlo per curarsi totalmente adesso che hai ferito quindi non so se vuoi bruciarlo subito siamo finiti subito e infatti comunque la vostra è finale sì in ogni caso Liliana non è ferita quindi non è troppo un problema ok a proposito Magnus usa i tre fili che ha su di me per curarmi i tre danni che ho subito non adesso però quando sarà il suo turno che palle va bene tocca a me quindi o attacco gli androidi oppure vado a staccare il cavo però basta me la rendere difficile se cerco di staccare il cavo quindi mi sa che vuoi no staccare il cavo è attualmente molto difficile semplicemente perché ci sono gli androidi davanti alla strada per andare a staccare il cavo ok è molto più semplice allora immaginatelo come un corridoio però molto largo quindi che con tutte le taniche ai lati poi in mezzo al corridoio ci sono Christopher e Marid che si stanno scazzottando e dietro Christopher e Marid ci sono gli androidi e dietro gli androidi ci sono il cavo ed Evangeline e le porte da cui sono fuori gli androidi se io di forza prendessi As e lo lanciassi oltre l'ostacolo morirei perché ho tre danni subiti diciamo va bene no vai nove merda per cosa per attaccare gli androidi ah ok quindi già superi sì però devi ritirare un 1 quindi a meno di avere una sfiga incredibile quello diventerà 10 o più comunque volevo chiedere Nicola dove l'hai rimesso tu il più 1 dell'avanzamento della scorsa volta ok ah ok è 14 6 6 più 2 infatti ovviamente quindi ci sono Marid e Christopher che stanno facendo a botte ma tu gli ignori totalmente passando in mezzo alle gambe di Christopher e lanciandoti in una corsa sfrenata contro gli androidi prima di colpirle uno in quale modo un liat in corsa un un liat non so che cos'è come mossa di rest una ginocchiata ok allora facciamo una ginocchiata ok io la so perché era una mossa di recuum della squadra chigno in dragon ball ok gli dai una ginocchiata dove? in in testa ok gli fai lo vedi barcollare pesantemente infatti ricordati che quando fai un tiro per scagliarti contro qualcuno a successo pieno non possono reagire infatti lo vedi prendere il colpo ribaltarsi un attimo all'indietro e ha subito parecchio il danno ora è il turno di Maximus Maximilian Magnus Maximilian mio dio Maximus Magnus Maximilian che a causa della sua mancanza di personalità l'unica cosa che deciderà di fare sarà curare Az come gli è stato ordinato visto che oggi la sua personalità è a cercare un gap quindi adesso posso lanciare Az dall'altra parte senza che muoia sì però preferirei che non si facesse tale cosa va bene ok comunque no non puoi lanciarlo più adesso sei in corpo a corpo con gli androidi allora io provo a fuggire verso il cavo vuoi provare a fuggire verso il cavo sì perché devo passare attraverso gli androidi per arrivarci no sì ho uno e se faccio un successo parziale uno di loro mi bloccherà la strada perché mi imbatto in qualcosa di peggiore immagino quindi non è che ci guadagno più di tanto a fare questa cosa ho fatto no ok hai un più uno da parte da qualche parte dipende l'ultima volta avevo fatto un 11 un 11 su freddo per capire la cosa del tesserato se non sbaglio ok e poi ha fatto altri giri e qui no perché mantenere il controllo con 11 ti dà uno prossimo quindi questo è un 10 ok quindi possiamo metterla come giri intorno al gli schivo in pratica si no più che schivarli ci passi di nascosto dietro nascondendoti dietro le capsule si strisciando strisciando a parete in pratica e arrivi di fronte al macchinario per per staccare via il cavo per attaccarlo da quel capito in realtà e adesso è attaccato a qualcos'altro non è attaccato a più Evangeline cercherò di capirlo dopo ok anche perché appena arrivi di fronte al cavo escono fuori altri due di queste cose qui dalle pareti ovviamente è letteralmente l'unica cosa che possono fare queste cose è spawnare adesso è il turno di nuovo di Liliana se vuole fare qualcosa tra l'altro adesso Christopher e Marid hanno cominciato a darsele ancora più pesantemente di prima infatti Christopher ha preso fuoco sì e Marid non potrà fare niente perché ha legaccio che è stato addosso esatto ci sono comunque modi creativi in cui può ferirlo immagino non fisicamente sì quello è vero può usare comunque la magia immagino sì ha la magia anche se contro la magia sì i Venator sono diventano mostri per dar la caccia ai mostri sono una pelle davvero spreggevole adoro averla creata apposta per essere utilizzata come villain comunque per ora non ha fatto granché effettivamente i tentacoli oscuri che li ha volti attorno al corpo stanno cercando di bloccarlo più che altro sono dei tentacoli invisibili quasi lo vedete combattere vedete che quando sta tipo per colpire con la spada i tentacoli appaiono e lo bloccano tirandogli la di nuovo indietro quando sta per tirare un pugno appaiono quindi sono catene che si vedono sono sempre lì però appaiono soltanto quando sta per colpire e per ora sembra che lo stiano tenendo abbastanza fermo però allora dato che il mio seo scuro dice che le mie fatture hanno sono più efficaci di quanto mi piaccia ok l'avvizzimento ora lo fa a pezzi vuoi fare dei danni gravi posso provarlo o uso illusioni puoi anche provarlo volendo sì ma vuoi fare qualcosa di danno sì ma vuoi uccidere una persona così allora questo è molto di roleplay quindi non prendertela troppo solo col concetto di danno cioè avvizzimento gli potrà fare danno anche senza danno cioè volendo potreste addirittura one shot parlo dopo che iliana perché non gli lanci la fattura delle illusioni e fai sì che gli androidi sembrino dei suoi nemici così che lui si metta a battersi contro gli androidi non può controllare le illusioni sì però adesso ce le ha maggiorate sì però non può controllarle comunque non così in maniera così precisa anche se ce le ha maggiorate significa che hanno un effetto maggiore è ancora più incontrollata in realtà giudicare come scritto al suo scuro provarei avvizzimento perché dici che non dovrai ucciderlo perché è comunque una persona e noi siamo comunque teenager vabbè tanto lo deciderebbe ma vuoi fare uno più uno dicendo che anche se lui è un mostro anche se lui è un assassino una volta che arriverà la polizia per capire che cazzo è successo qua dentro se qualcuno dirà che tu hai ucciso un'altra persona andrei comunque in galera era in teoria cioè nella vita reale se io uccido un assassino non mi rende un eroe e purtroppo qua comunque se uccidi un assassino che sta cercando di assassinare in questo momento siete comunque in america quindi immagino che ci sia la legittima difesa e il problema è che lo farà tramite la magia quindi eh sì comunque dovrà uccidere tutti voi che siete testimoni esatto sì esatto è quello il problema comunque hai ragione sei nel tuo se è oscuro perdere il controllo e diventare violenta è totalmente il tempo delle sottigliezze e della pazienza è finito dice la prima riga del se oscuro esatto e lo accetto tranquillamente se vuoi farlo di fattura vai di nuovo di fattura 11 ok perfetto ok ok vedi allora i tentacoli che prima erano traslucidi e che apparivano solamente quando lui attaccasse attaccava che si attaccano come degli arpioni come delle ventose al suo braccio e vedi che pian pianino stanno prosciugando la sua linfa vitale lo vedi cominciare a letteralmente a passire a vista d'occhio puoi ancora interromperla per evitare giusto prima di ucciderlo però piano piano adesso lo stai prosciugando in pratica segno come un danno effetto ogni turno gli do un dann ok e adesso è già un danno aspetta un attimo prima di Maya perché sennò poi gli altri non arriveranno mai mi sto rendendo conto che sta andando molto in fretta questa scena dalle scale e tutto arrivano anche altri vostri compagni che in teoria avevo previsto che vi dovessero tornare a affrontare gli androidi ma non sembrano molto problematici questi androidi sì perché non magari perché non cioè stiamo tirando bene per quello che non sono problematici c'è Giulia che quindi anche lei si lancia per cercare di dividere Christopher e Marid c'è Albert che non mi sembra molto intenzionato a iniziare il combattimento ma dalle scale scendono anche Tabitha April e la professoressa Michelle così aggiungiamo un po' di personaggio alla scena che è un po' più colorata quindi ci saranno più personaggi che dovrò uccidere Liliana dopo che t'hanno visto utilizzare la magia beh no sono arrivati adesso quindi non mi hanno visto t'hanno visto lanciare la seconda fattura purtroppo la prima la prima no io continuo a picchiare gli androidi ok 12 ok è ben poco che gli androidi possano fare in realtà va bene allora ne prendo uno per la caviglia e lo uso come in un chaku per smazzolare gli altri e non fai neanche troppa fatica a farlo questi più che androidi sembrano bambolotti infatti prendi l'android di prima che avevi colpito e lo utilizzi e lo lanci contro un altro senza problemi bene e intanto dico resisti as sto arrivando ci metterò soltanto un minuto anzi mentre mentre li stai usando pensi anche tra tre e te quanto siano leggeri questi androidi sono tipo vuoti dentro sono gli androidi più merdosi che abbia mai visto Nicola ha mandato un'immagine degli androidi in questione ma magari fossero così ok sei tu che stai assorbendo la forza vitale di di Marid quindi al massimo sei tu quell'android quindi a me era perché per gli androidi si è scoperto che li era android a cosa è collegato questo affare quindi al muro non sai che cosa c'è dietro che sta alimentando ok riesce a vedere non proprio la presa che sarebbe dovuta essere inserita per Evangeline però questo qui sta andando in un'altra parte dentro il muro quindi sai che cosa c'è è come se fosse una presa da un muro spinotto ok ok ma quindi posso staccarlo dal muro puoi provare a fare un test per mantenere il controllo immagino per provare a sapere come staccarlo ho due androidi abbastanza vicini quindi speriamo che il test vada bene questi androidi non hanno problemi a nessuno quindi aspetta il mio tiro prima di dirlo 8 hai qualcosa da aggiungere no ti prego dimmi di no no sono le azioni che mi renderebbero vulnerabili in questo momento allora questi androidi in teoria avrebbero dovuto rappresentare l'ultima linea di difesa contro il nemico effettivamente avete fatto bene semplicemente a girarli l'unica cosa che ti posso dire è continua così ho fatto tutto giusto ok l'unica cosa che c'è da fare è davvero staccare lo spinotto quindi tira finché non hai un risultato sufficiente provo a staccare la spina quindi sì no ma questo qua te lo considero come un fallimento parziale quindi sai che quello che stai facendo è giusto sai che devi staccare la spina ho capito stai cercando di immaginare di più da questa boss aspetta va bene allora passa agli altri anziché ma un androide si para tra te e la spina afferrandoti per il braccio e quotendoti non so che cazzo non ho fallito però ma infatti ti afferra solo per il braccio non ti fa danno prego numero 8 che è Liliana non so gli altri sono arrivati c'è Marid che sta continuando a subire danno c'è qualcosa che vorresti fare a questo punto potrei cioè e mi hanno avuto tirare quell'incantesimo beh adesso lo disattivo e se non costa un'azione di attivare l'incantesimo a questo punto andrei a aiutare Ad quindi schiverei Android non è che ci sono vere e proprie azioni ti posso considerare che stai facendo semplicemente le due cose in contemporanea quindi mentre stai correndo da ads puoi semplicemente mettere di concentrarti avvizzimento è riuscito a lanciarlo con 10 più quindi può facilmente essere revocata non è specificato per 7 e 9 cioè legaccio però legaccio è buono che rimanga mi faccio fare comunque un tiro instabile per farmi vedere se arrivi direttamente da ads oppure se ci metti un attimo di più magari viene anche tu bloccato un attimo dei robot o da Christopher rinfocato comunque ricordo se c'è un Christopher rinfocato 5 ok effettivamente il Christopher rinfocato mi sa perché è l'unica cosa che pavano a quanto pare Marid adesso si è liberato effettivamente dal tuo avvittimento cioè tu l'hai liberato dal tuo avvittimento e si è ha fatto 2 più 2 per capire che non può attaccare fisicamente qualcuno quindi sta cercando un'altra opzione e l'altra opzione che gli è saltata fuori è apperrare di peso Christopher e lanciarlo verso qualcun altro se non può utilizzare i suoi dugni per farli male utilizzerà l'ambiente per farli male e lo lancia infatti verso una di quelle capsule dove è vuota però non c'è nessuno dentro e proprio mentre tu stavi cercando di sgattaiolare e vieni ferita dal non tanto dalla rottura delle capsule ma dal fuoco che sta bruciando addosso a Christopher quindi segna un danno però effettivamente ti sei spostato molto più avanti sei più o meno verso il centro della stanza dove tutti i robot stanno praticamente combattendo contro Maya a cui passeano Maya infatti e adesso è il tuo turno va bene continuiamo ad ammazzare i robot anche se hanno dei sentimenti intanto finché fai il massimo si mi ammazzi facilmente in realtà un po' lentamente perché non hai troppo che fa danno e niente questi robot continuano ad essere utilizzati come degli spazzoloni da parte tua e riesci tranquillamente a destreggiarti tra i tuoi robot e anche non far attirare l'attenzione su Maya su scusa Liliana e vedi anche che il robot che stavi utilizzando come Nunchaku sta cominciando a spezzarti vedi le braccia che stanno cominciando a staccarsi e il corpo che sta deteriorando molto in fetta ok e in realtà basta ritorniamo quindi ad Haz che cosa ritorniamo un attimo anche a Maximilian però che mi dispiace tenerlo così proprio che non sta facendo nulla gli altri ragazzi comunque vi stanno correndo incontro per aiutarvi quindi vedete che ci sono anche Julin che ha lasciato un attimo da parte uno Christopher e Marid rendersi conto che non riesce a fermarli fisicamente quindi si è lanciata anche lei contro uno degli androidi di di Maya c'è anche la professoressa Michelle che insieme a Tabitha sta cercando di attirare l'attenzione del di un altro di quegli androidi tanto due se ne occupa tranquillamente facilmente Maya mentre vedete Albert che sta correndo verso Haz anche lui nascondendosi dietro le dietro le provette così vediamo se andrà avanti fino a cosa c'è anche Leona però Leona magari scende un attimo dopo c'è altro c'era c'è c'è April e niente quindi Haz se vuoi farmi qualcosa adesso di nuovo il tuo turno questo è l'ultimo tiro che posso fare con questa mossa per tutta l'avventura spero che ne valga la pena però quando c'è il crack dietro e un essere in fiamme cade contro Liliana c'è soltanto una cosa che mi viene in mente da fare se si è rotta se si è danneggiata con il dietro significa che adesso la cosa con dentro il liquido si è rotta quindi io prendo quel liquido e cerco di utilizzarlo per spegnere l'incendio cerco di spegnere loro sono tipo dall'altra parte della stanza però tu sei tipo di fronte ad Evangeline fa niente non so neanche se arriva il liquido fino a te e allora ok ah è vero sono un waterbender è vero controlli il liquido non ci ho pensato è vero mi ero dimenticato aspetta quindi hai detto che vuoi utilizzare quel liquido per spegnere l'incendio l'incendio è spegno 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 christopher in pratica ok ma perché è nostro amico aspetta perché forse vuole farlo uscire dal seo scuro sia per calmarlo sia perché sta danneggiando te e dannazione io mi prendo cura delle persone soprattutto se sono mie amiche e soprattutto perché quando hai subito danno io l'ho sentito per via della mia mossa ah anche ok ho più zero perché ho usato tutti i miei punti potere quindi prenderò anche una condizione dopo questo tiro mio dio quindi io faccio oh no non ci provare e effettivamente una cascata di questo liquido ghiacciato cade addosso a christopher spegnendo totalmente i sui bollori e facendolo rinsavire momentaneamente immagino rinsavire normalmente a causa di questa cascata che gli è caduta adesso non mi aspettavo in effetti c'è comunque un robot in corpo a corpo con te che però non non sta avendo un atteggiamento particolarmente aggressivo tu vieni distratto da christopher e il robot semplicemente ti afferra alle spalle ne basta la pena comunque beh adesso tocca a qualcun altro salvarmi comunque ho mandato una foto a una persona per far vedere che stavamo giocando e vi saluta salutate una persona ciao una persona quella persona è galimba no è brigio è brigio no il mistero del mistero compagna dell'università ah pensavo fosse Paolo no stavo già per dire spero che quella persona non sia stavo per dire qualcuno che mi sta antipatico ciao fede non so se mi sta antipatica non penso perché non ti conosco e sappiamo il tuo ottimo sappiamo il tuo ottimo track record con le persone nuove basta posso dire che mi è capitato di conoscere persone nuove e fare una buona impressione tipo a zippo sono sicuro che la prima impressione che ho fatto era stata tipo ottimissima per zippo non era male ok no no era una buona impressione quindi una persona di ec mi considero una persona simpatica tocca a liliana adesso esatto liliana tra l'altro quando esci dal tuo sé oscuro fammi vedere una cosa è vero dovrei dare la pace puoi uscire dal tuo sé oscuro devi offrire pace a cui l'hai maggiormente ferito oh cazzo probabilmente non ci uscirai mai no sai che cosa hai solito in fin dei conti la pattura a vittimento da da Marid posso considerarlo come offrire pace io direi alla fine di tutto di questa cosa quando se Marid sarà sopravvissuto e sconfitto puoi offrire la pace però ricordiamocelo puoi anche offrire la pace come i francesi l'hanno offerta ai tedeschi alla fine della prima guerra mondiale era pace comunque e Penati cerca sempre di insegnarci un po' storia ho detto la prima vero non la seconda la prima ok Penati cerca di insegnarci un po' di storia senza rassegnarti al fatto che io non sono disposto a imparare nulla Luke perché sei così affezionato alla storia perché gli piacciono i Sabaton è il contrario in realtà sono particolarmente affascinato dalla tecnologia della prima guerra mondiale e perché non è stata cioè è stata tremenda però tutti considerano solo la seconda ma anche la prima ha visto la prima guerra mondiale è stato il periodo in cui sono state inventate tutte le armi moderne e dove sono state fatte comunque un sacco di robe terribili e dimenticarsi non sarebbe siamo tutti d'accordo con il fatto che le guerre sono incredibili perché ci fanno fare un sacco di progressi scientifici non è la cosa che ti devo certo io quello che ho sentito è dobbiamo fare più guerre questo è quello che ho sentito io ho sentito anche Penati dire chiaramente se non avessimo fatto la guerra non saremmo mai arrivati sulla luna questo lo ho sentito dire da Penati quello onestamente è vero tecnicamente sì basta a idea dei pressi che ci sono al supermercato la guerra fa schifo veramente noi facciamo schifo bravo il Pippo bravo il Pippo contro Penati che vuole la guerra non voglio la guerra mi piace mi piace la tecnologia mi dispiace che sia stata utilizzata per uccidere persone allora faccio il buon politico di turno e non do il tempo a Penati di difendersi da accuse che ho appena inventato e ritorniamo a Liliana Liliana che cosa vuoi fare sei più o meno al centro della stanza in questo momento quindi non ci vuole troppo sia per raggiungere ads sia per tornare indietro o se vuoi lanciare un'altra fattura sì però dopo averti salvato vedi che io sono stato c'è un robot che mi sta abbracciando e io sono tipo aiuto aiuto ma guardo un attimo che Christopher sia vivo e che non sia sospento e morto è abbastanza vivo gli è caduto adotto una cascata che l'ha spento totalmente ma è vivo tranquillamente non gli ha fatto danno tra l'altro che vuole fare il doppio 6 sul tiro che dicevo questo è il tiro che se fallisco è terribile a proposito urlo agli altri di soccorrere Christopher comunque Christopher ha subito un danno perché Marid l'ha lanciato comunque contro le batti quindi comunque è stato ferito anche però sta bene gli altri di aiutare Christopher e corro verso Haz e faccio quindi un altro tiro ok dimmi che cosa vorresti fare per aiutare Haz perché in base al questa è un'ottima domanda quello che voglio fare è arrivare da e chiedere Haz come posso aiutarti con questa cosa allora vi do un un piccolo riassunto delle condizioni che ho nella ragnatela non importa perché tanto vale soltanto per Magnus però io sono spaventato sono violento e adesso sono anche prosciugato perché ho usato tutto il mio potere quindi sono aiutato a uno straccio molto incazzato e anche spaventato quindi sono tipo con le lacrime agli occhi allora no è proprio te ne ho detto che funziona a usare legaccio anche sul robot ok puoi provarlo a tirare oppure potresti provare a usare avvizzimento per fargli tipo arrugginire le braccia che gli cadono e mi liberano una cosa del genere è meglio legaccio credo perché al momento non mi sta facendo danno comunque magari sono soltanto android in cerca d'affetto sai cosa potresti lo abbraccerò con dei tentacoli secondo me potresti fare osservare ed entrare nella mia mente cadere a terra totalmente se vuoi fare puoi anche mantenere il controllo per cercare di capire come aiutare ad volendo però tu hai meno uno a freddo giusto lo ricordo semplicemente perché molta gente si dimentica che esiste mantenere il controllo invece è abbacca di trezza in quanto unica persona qui ad avere freddo in positivo so che potrebbe essere non una buona idea ma potrei magari il robot ha un pannello di controllo sulla schiena no prova a fare freddo allora lì devi fare per forza mi sa freddo perché il tuo guardare nell'abisso ci vorrebbe un po' troppo ho fregato è fallito di nuovo ok che cos'è che volevi fare esattamente quindi tra le varie cose che abbiamo tirato fuori cercavo vedere se c'era un modo per disattivare il robot in pratica ok giri dietro al robot quindi gli giri un po' un attimo intorno per cercare un pannello di controllo qualcosa per disattivarlo notizia positiva non c'è nessun pannello di controllo hai la conferma che e questa era quella positiva positiva sai che non puoi disattivarlo così la notizia negativa è che c'era un altro robot che è uscito dalla parete e quello robot ti arriva dietro e ti afferla anche te mentre il robot numero uno si comincia a allontanare con Az in braccio Maia cosa stai facendo dove sei sto abbattendo gli androidi da almeno tre ragazzi salvo voi o ti ho fuori la spina salva noi va bene d'accordo allora io mi gesto sull'android voi lanciate tranquillamente su gli androidi senza problemi anche perché i quattro androidi che stavi affrontando prima adesso stanno comunque combattendo contro gli arresto dei tuoi compagni di classe anche Marid stesso si è trovato contro un android quindi sta combattendo contro di lui quindi non ti devi fare problemi credici avevo capito credici e invece credici no 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 credici altro che crederci basta agire ok vado dall'android di Az e io rompo le braccia all'android quindi hai fatto credici effettivamente quindi si corri di fronte all'android di Az prima che lo vedi anzi vedi l'android di Az dirigersi verso il muro da cui sono apparsi da cui esce un terzo androide con una ma da cui dalla mano esce una siringa o una culeo diciamo che sta per infiltrare Az ma ma tu riesci a intervenire prima a bloccare non solo quella culeo ma fare da scudo ad Az staccando aprendo le braccia all'android che lo teneva impregionato va bene quindi c'è adesso un Az libero che una volta libero cuore al cavo cerco di staccarlo dalla parete ok ok come devo fare serve un tiro e soltanto una schia puoi vedermelo come un tiro su perché l'ho già fatto un tiro su freddo prima volevo fartelo fare magari su instabile adesso semplicemente per la corsa ok per vedere se arrivi prima dei robot sì perché ce ne sono comunque un po' in giro non potevo tirare bene per sempre in realtà ci sta perché comunque ve la state cavando avete fatto un'ottima parte stiamo rallentando un po' bello che ieri sera avevi detto ci mettiamo un quarto d'ora sono passati 45 minuti però la sto allungando aspetta mi sono bloccato comunque stavo dicendo la sto allungando lo sai che dobbiamo anche fare un epilogo in cui parleremo un sacco tra di noi comunque non è che anche quello è vero anche quello è vero non aggiungerla tra otto che io a mezzanotte esco comunque oggi non posso starvi più comunque riesce ad arrivare davanti allo spinotto tuttavia tra la fatica e tutto ci hai messo un po' ad arrivare hai dovuto evitare Liliana davanti a te chiedendo di salvarla per arrivare davanti allo spinotto quindi semplicemente hai perso un po' di tempo succede qualcosa però senti un urlo da qualcuno proprio quando arrivi davanti alla spinacca e ti fa girare un attimo lo sguardo prima che noti Albert infilare direttamente tutto il suo braccio dentro il petto di Marid what the fuck questo è quello che ti accorgi prego Liliana wow era così forte che cazzo quindi è morto Marid mi sa di segno I don't know forse gli hanno appena infilato un braccio nel petto non sei sicuro che sia morto a meno che Albert non sia un fantasma e quindi gli sta passando attraverso ha la mano decisamente piena di sangue ok adesso smetto di ascoltarvi uso legaccio il mio robot ok 10 perfetto sul tuo robot quello che ti sta tenendo ferma si in teoria però dovresti guardarlo negli occhi dovresti incontrare lo sguardo di quel robot fa così è un po' difficile però dico che tipo può guardare in basso il suo piede conta come averlo visto può guardare le mani che lo stanno tenendo se non posso lo faccio su quello che sta portando via comunque anche perché semplicemente io sono a posto ma io mi asso riesci a bloccarlo dentro i tentacoli ma i tentacoli non gli fanno granché lui non ti sta aggredendo quindi non vale come i tentacoli si attivano però non ti sta cercando di danneggiare fisicamente quindi non stanno facendo nulla per ora vedi i tentacoli che semplicemente si attaccano al corpo dell'androide che vi seguono mentre l'androide ti trascina via mi dispiace maia maia prego è di nuovo il tuo turno c'hai un androide dietro di te con uno spillone in mano e un androide davanti a te a cui hai appena tipo strappato le braccia e naturalmente hai visto marid pare essere one punch mato da da albert può ritirare comunque il 2 giusto? è vero dimentico sempre che ho creato quella mossa non cambia non riesci a fare abbastanza questo è sterile che comunque è abbastanza in realtà per per fare comunque danno è comunque un successo devi scegliere uno però cos'è che hanno le opzioni? imparano qualcosa sulla tua vera natura e guarda agnano un filo su di te io decido quant'è l'intensità del danno oppure diventi il tuo se oscuro il mio se oscuro non mi va di farlo entrare fai te il danno ok come avevi detto che li volevi colpire in teoria io non li volevo colpire volevo staccare la spina ok la spina allora incredibilmente riesci a raggiungere comunque la spina però è abbastanza inchiodata al muro stranamente in realtà non dovrebbe essere così difficile staccarla ma sembra più resistente del previsto quando tocchi la spina però senti albert urlare non lasciateli toccare la spina fermatela e tutti i robot si dirigono verso di te bastardo è un simulacro è un android anche lui abbiamo una preview del prossimo PGD adesso tanto è il turno di ads ed è già lì quindi a meno che non mi ferisce totalmente il tiro non penso sia così difficile staccare adesso può essere mantenere il controllo si ti faccio tirare con che statistica vuoi 13 ok va bene e anche a quanto pare quindi Maya ha allentato molto la spina o comunque tu e Maya riuscirete finalmente a staccare la spina e vedete i robot che cominciano a rallentare drasticamente si vede proprio come dei pupazzi che stanno cominciando a scaricarsi e questa spina e questa spina è proprio dello stesso tipo che va infilato nel terminale si si la vedete tranquillamente è come se come la posso descrivere ce le avete presente quelle spine tonde che si possono attaccare agli idranti ok idranti si si è una spina enorme sarà tipo grossa così è collegata a un tesserato e starà producendo una quantità di reagente ho capito cioè non attacchi una presa di corrente agli idranti però ho capito cosa intende quella dove è presa d'acqua non perdiamo altro tempo vai e comunque una volta che la staccate vedete un attimo i pin penso si chiamino anche sempre lì della presa e sono praticamente idranti cioè quella di Evangeline quindi adesso ha un turno Liliana e poi se vuole Maya può provare ad attaccare Evangeline prego Liliana cosa vorresti fare è ancora provocata il robot però posso lanciare magia il robot si può utilizzare tranquillamente magia e comunque il robot si sta scaricando cioè non avresti bisogno di fare un test chissà quanto alto per riuscirti a liberare dal robot se proprio potresti fare qualcosa per Albert potrei buttare delle illusioni ad Albert anche io farei quello se nessuno la ritira nice mi sembra una buona in realtà hai anche un qualcosa su Albert non hai rubato nulla lui non ha importanza a questo punto no lui in teoria è il cattivo c'era qualcuno che aveva un filo sul cattivo in generale era Maya era Maya ah ok mi hanno detto un secondo un filo su no uno prossimo uno su due su tabita no non era Maya era Magnus se non sbaglio ah ok Magnus ok che brutto hai qualcosa per aggiungerci qualche statistico non so se avevo uno in più per aver fallito prima prima no allora non ho fili quindi stai tenendo conto di ogni fallimento che hai fatto per il punto esperienza perché io sono già a tre sono a due e in realtà l'altra volta non ho contato i punti esperienza che ho avuto però probabilmente ne avevo altri due ma non ha importanza l'ho ripreso a contare soltanto da questo punto il tuo incantesimo va a buon fine vedi tranquillamente l'incantesimo essere lanciato addosso a Albert ma c'è un controincantesimo non sai da dove viene non sai chi l'ha lanciato puoi capire che è stato qualcuno in questa stanza ma c'è stato qualcuno che ha annullato il tuo incantesimo quando l'ho lanciato com'è possibile I don't know maybe there is another witch ok abilità però non avete idea di chi cavolo sia stato e ormai sono scesi anche tutti gli altri compagni ma abilità non è a un goal adesso è il tuo caro turno Maya siete riusciti a staccare la spina che cosa volete fare i robot si stanno fermando Albert sta ancora correndo contro di voi però ok mettiamo la spina nell'altro nell'altra presa ok e sarà anche la mia azione in pratica ok allora se proprio volete fare così allora consiglio a Maya fai qualcos'altro e poi lascia questa azione a loro az che ha più freddo di te e chi deve essere freddo beh stai attaccando una spina penso che sia ma sai cosa stai attaccando una spina non è neanche bisogno di fare un test in teoria non è una cosa così difficile da richiedere nel dubbio io ho fatto eh va bene comunque riuscite facilmente ad attaccare la spina con l'uno prossimo di prima 9 non che faccia un'altra differenza ok hai perso l'uno prossimo di prima quindi è sprecato così te lo faccio sprecare così impara a tirare in anticipo attaccate la spina e vedete il terminale di Maya di Evangeline accendersi con l'enorme scritta Windows 10 aggiornamento in corso no sto scherzando non usano Windows 10 usano Windows 7 si vorrà anche ora di più questo è il piano dovete installare per almeno 80 turni finché non si finisce di aggiornare il sistema no Evangeline si sta accendendo ci vorrà però comunque un attimo a farlo accendere quindi avrà il tempo Albert di fare qualcosa e quel qualcosa è scagliarsi contro di voi cioè non può fare infatti si non potrà fare a meno che non abbia un filo su di noi però io ho fatto attenzione a rimuovere chi è il filo che aveva su di me sinceramente non ho segnato nessun suo filo nei suoi confronti perché glielo ho dato e poi l'ho cancellato nessuna semplicemente adesso si sta cercando di lanciare verso di voi per staccare il cavo che voi avete attaccato quindi adesso chiunque sia il primo turno quindi te Haz dovrete cercarvi ma sai cosa ve lo faccio fare magari insieme dovete fare un tiro per cercare di bloccarlo Maia non ha ancora usato il suo turno quindi tiragli un cartone va bene no Maia non ha utilizzato il suo turno per attaccare la spina facciamoglielo fare comunque non importa facciamoglielo fare comunque è la persona più qualificata per questa cosa mi sembra più che accettabile cali il tuo turno all'inizio dio mio ritiralo per favore questo è l'unico tiro che fallisci in tutta la campagna in in instabile wow ok ok quindi è 8 effettivamente quando devi scegliere uno in teoria ok quindi scegli tu l'entità del danno ok ecco facciamola facciamola infinita in fretta non c'ha probabilmente possibilità di vincere questo poverizzo quindi il pugno che gli tiri è parecchio forte e gli proprio trapassi il cuore lo colpisci dove c'è il petto facendogli passare il pugno da anzi no non il pugno l'hai trapassato così e c'hai ancora il suo cuore cosa non volevamo ucciderlo io non posso uccidere nessuno ma loro ok io scelgo l'intensità del danno purtroppo e l'intensità del danno in questo caso è stata molto perché gli dai sempre l'intensità del danno zippo porca troia perché perché sono pig e non voglio scegliere gli hai trapassato il cuore e hai in mano quello che è l'equivalente inorganico di un cuore si vede che è sintetico e si vede che ci sono tutti i pezzettini di metallo in giro come se avessi perforato tipo l'armatura di Iron Man senza Iron Man dentro immagino sono extremis quindi cazzo no è un robot anche lui esatto e c'è e c'è Albert che che lo vedi tossire oh cazzo forse penserai di avermi fermato ma io non mi sembra mai io 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 gli dico stai zitto piccolo fotti tostapane e gli do la condizione fotti tostapane non lo sente nemmeno perché è morto non importa ce l'ha comunque ho fatto dieci è morto prima che facessi la cosa oh mio dio e questo qua lo faccio soltanto come ripicca personale perché appena ti dice che io sputtano sempre i finali delle campagne dei miei personaggi beh è vero poi gli faccio dare il vostro file sì non sono disposto ad ammetterlo un po' mi dispiace riprenditi fuori scusa stai parlando a un cadavere stai parlando a un robot morto in fin dei conti non è neanche così tanto importante non sei sicuro neanche se i robot abbiano un'anima che te frega se l'hai ucciso oppure no e così finisce la cosa come si risolve la cosa e Evangeline si riattiva ci mette un secondo neanche un secondo a recuperare tutti i filmati che comunque erano stati fatti e che ne erano rimasti in background nel suo sistema operativo appare 2 più 2 su tutto quello che vede tutto quello che è successo e dire oh ok non mi aspettavo che in così poco tempo potessero succedere così tante cose questo è più il master che Evangeline spero vivamente che il mio progetto non venga eliminato e che io non ci vado di mezzo per quello che avete fatto spero vivamente che i miei creatori siano clementi non ti preoccupare ho un piano B ho inserito una chiavetta USB nel terminale di Evangeline e mi dico copiati sulla chiavetta USB c'è mezzo giga non prepari senti il Doom Slayer l'ha fatto in Doom 2016 quindi gli posso farlo anch'io mi dispiace ma non penso che sia così facile vi vedo tutti un pochettino provati da questa cosa forse è meglio che lasciate finalmente l'hotel ho già aperto le porte quindi adesso potete lasciarlo senza problemi lasciate pure qua i vostri compagni caduti chiederò personalmente allo staff di Eureka di occuparsi dei cadaveri dopo che ci sarà stata un'approfondita ispezione a me Evangeline sì esattamente a me farebbe comodo avere ancora una stanza da letto cosa? no io volevo se potessi cancellare o far sparire misteriosamente alcuni filmati in cui alcuni di noi effettuano delle manovre discutibili visto che noi abbiamo fatto tutto questo per cercare di salvare te e i nostri compagni non stavamo cercando di ferire nessuno cercherò di fare del mio meglio posso fare un tiro su caldo su Evangeline mi sono tolto gli occhiali non so se una Evangeline abbia vere e proprie emozioni sì puoi formarlo a fare un tiro su caldo però mi lasci una stanza libera dice per favore mettiti gli occhiali cercherò di fare del mio meglio perché non voglio finire io stessa nei guai per tutto quello che è successo tuttavia non preoccupatevi non penso che vi succederà nulla di male ma è ora che voi usciate da questo hotel e non vi preoccupate anzi non vi preoccupate delle conseguenze la città di Eureka vede molto spesso esperimenti falliti e molto molto spesso persone ci rimettono la vita facendo da test quindi sono sicuro che gli scienziati della città metteranno una pietra sopra questa non è la città di Eureka che ricordavo questa è l'SCP Foundation o Apertura Industries Ma comunque comunque in caso ricordate ricordatevi domani mattina quando vi risvegliate di venirmi a cercare se avrete problemi forse vi potrò dare una mano quindi possiamo dormire qui stasera? no lei vi dice che comunque dopo tutto quello che è successo dovete uscire proprio questa è diventata scena del crimine eh esatto sono morte persone sì quindi adesso noi usciamo finalmente all'aria aperta dopo e tra l'altro le persone che sono dentro quelle capsule non ve le fa tirare fuori perché non siete capaci proprio di tirar fuori queste persone bisognerà scollegarle infatti c'è un motivo se non ho cercato di estrarre il liquido immediatamente dalle capsule perché avevo paura che avrei ucciso qualcuno però quando hai detto che ce n'era una vuota e che si era molto detto perfetto ce n'erano molte vuote ce n'erano alcune piene volete fare qualcosa prima di lasciare completamente l'hotel c'è il professor Ryan che sta andando in fila indiana verso l'uscita io volete semplicemente chiuderla qua io la discussione finale tra i nostri personaggi la posso fare tranquillamente anche fuori quando ci sediamo sul marciapiedi finalmente all'aria aperta ve la preferisco fare forse fare qua dentro prima perché poi all'aria aperta non avrete magari molto tempo ok ok quindi semplicemente mentre state un attimo raccantando sistemandovi un attimo prima di uscire toh sai che cosa potete fare un'ottima discussione belli calmi in ascensore nell'ascensore che ci mette sempre convenientemente il tempo necessario per salire l'ascensore conveniente sì il plot ascensore plot elevato scp 1555 ascensore conveniente se volete potete farvi anche dei tiri per mantenere il controllo quindi chiedermi cose o fare comunque io pensavo soltanto di discutere tra i nostri personaggi e basta ok va bene ok quindi prima cose di gruppo yeah ah proprio Liliana grazie per essere finalmente per esserti finalmente aperta con noi riguardo ai tuoi poteri ne avevo sospetto già da un po' ma non volevo tirare di che stai parlando quali poteri ah e chiedi che Liliana c'è stato qualcuno che gli ha bloccati i tuoi poteri ah addirittura mentre lì nel tuo seoscuro ah già adesso tiro un pugno a Tabilla dov'è giusto povera Tabilla cavoli lasciata con Albert non ci posso credere dopo che avrei dovuto ah fa niente ti posso credere che pessima cosa forse avrei dovuto impirla quando mi diceva che parlava con Angelina per cercare il pigreco però ma se qualcuno ha bloccato i miei poteri vuol dire che c'è qualcuno complice di Albert ancora beh non è mai intervenuto per salvargli la vita o per bloccare voi o per irvi ha soltanto bloccato i tuoi poteri e vorrei dire una cosa su Albert ho fatto molti frasi in realtà che probabilmente non ve ne siete accorti ma riascoltando questa campagna sapendo che Albert era il traditore suonano molto strane tipo c'è un momento in cui tu Maya chiedevi ad Albert dicevi ad Albert che forse un giorno sarebbe diventato come te ed Albert diceva tipo qualcosa tipo sì un giorno spero anch'io di potermi prendere ok ma non siamo ancora nel post sessione siamo ancora nella parte in cui stiamo parlando tra di voi allora io ho fatto nove però spendo il mio ultimo filo che ho su Liliana per arrivare a dieci su mantenere il controllo e capire chi potrebbe aver fermato i suoi poteri sì ce ne sono pochi però ci sono un po' di personaggi di cui in realtà non sapete pelli né nulla c'è la famosa Nicole di cui non si sa granché ok va bene lasciamo stare allora se non ci dai direttamente la risposta non hai no non vi do direttamente la risposta perché voglio tenerla come cliffhanger allora non ha senso vero quindi cioè sul serio volevi chiedere alle evangelie una stanza qua dentro per un'altra notte dopo tutto quello che è successo però tu l'avevi per questo ricordo tu l'avevi promesso quando ti ho dato quel paio di mutande le stai indossando adesso? sì per forza le altre me le ha prese Liliana dobbiamo discutere anche di quello però infatti scusate faccio un attimo il Magnus della questione intervenendo e dicendo scusate ma voi da quanto tempo è che tipo scoppate tra di voi? perché io sono l'unico fuori tra l'altro perché sei l'unico che non c'è mai Magnus mi dispiace cioè io e Maya andava avanti andava avanti da un po' però penso che siamo diventati qualcosa di un po' più ufficiale nelle ultime 24 ore e con Liliana dobbiamo ancora stabilirlo perché onestamente non l'ho capito nemmeno io e c'è stata anche tutta quell'altra questione ok perdonatemi un attimo ma sono comunque un po' sorpreso di sapere che i miei migliori amici nella scuola quanto pare si frequentano tutti tra di loro senza che io ne sappessi nulla ti giuro non era così fino a poche ore fa è stata una cosa molto improvvisa molto divertente però ok è un atteggiamento che mi posso aspettare da Maya non me l'aspettavo da te Liliana no neanch'io ma se lo fai con te stesso non hai tradimento va bene quindi problema risolto non parleremo mai più di omicidi e di altre cose beh problema risolto cioè onestamente sarò sincero se vogliamo fare una cosa esclusiva per me va bene non si ripeterà più una cosa del genere è che non avevamo ancora stabilito nessun tipo di legame ed era quello a cui avevamo iniziato ad accennare quando eravamo di fronte all'acquario però se vogliamo fare qualcosa di un po' più serio ovviamente tutto questo lo tagliamo fuori però mi dispiacerebbe tagliare fuori Liliana adesso che si è finalmente aperta un po' di più con noi e ci è avuto un anno prima che si apresse con noi oh cavoli a quanto pare si è aperta in tutte le maniere possibili dobbiamo discuterla per forza a quattro e non a due ma nonostante come se non ci fosse io farò commenti ogni tanto ignoratemi siamo comunque amici sì anche se adesso voi avete un rapporto più intimo sì è giusto per chiarirlo ma quindi anche voi in teoria non siete del tutto umani visto che comunque adesso la conferma che maia è umana è soltanto molto molto forte ah ok io sono 100% certo ho visto dei tentacoli di oscurità uscire dal terreno dopo che hai pronunciato parole in ebraico tipo non lo sanno fare tutti no è decisamente una cosa che non sanno fare tutti inoltre ho letto in un libro di casa mia che questa è una cosa che fanno le streghe magari è solo perché non vi impegnate abbastanza no sono abbastanza sicuro che siano per le streghe ma un giorno potrei provare a farlo anch'io ah e comunque Ase è un cuscinetto morbido morbido e ho anche nel corso di questa avventura sono anche riuscito a padroneggiare meglio la mia capacità di controllare i liquidi prima riuscivo soltanto a parlare con l'acqua adesso posso causare delle onde che spengono incendi a quanto pare per quanto riguarda la situazione a me dispiace di essere andata con Adele forse me ne sono un po' approfittata ci siamo un po' traditi a vicenda nello stesso esatto momento io non ci perderei troppo e poi per me non è un problema se è un problema per te possiamo chiuderla tranquillamente però no 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 assolutamente no non la voglio chiedere ok consigli di Monica quando trovi qualcuno che veramente ti piace devi andare fino in fondo ok non è un buon così buon consiglio in alcuni casi onestamente è lo stesso consiglio che ha seguito Nicole con Richard però tipo non lo so nel caso Maya e Liliana voi due avete intenzione di fare anche qualcosa tra di voi no credo senza offesa mi dispiace Liliana a quanto pare quell'accordo è saltato c'è Magnus che dice se non vi dispiace questa cosa qui preferirei non saperla non sono sicuro se la nostra amicizia sopravviverebbe al fatto che io sappia queste informazioni Liliana forse il vostro rapporto sì ma la nostra amicizia no è un po' triste dirlo però Adele adesso è sola e ho paura che adesso la cosa tra me Adele che non è stato niente possa diventare lei possa pensare che sia qualcosa di più no non penso onestamente quella lì mi sembra soltanto incredibilmente costantemente che pensi semplicemente sempre a quello cioè stava con il professore francese allora è una dottoranda di 25 anni rinchiusa in una città di scienziati nerd che non fanno nient'altro che pensare ai loro esperimenti appena si è visto un bel uomo come il professor Davet che è un fatato e tutto trovarci con lei lei ha detto sì più che altro quindi l'ultima cosa da stabilire è Maya se ti starebbe bene se ogni tanto io e Liliana facessimo qualcosa però io prendendo un altro il suo aspetto a quanto pare perché evidentemente è una narcisista non con il mio qualsiasi altro aspetto che io possa prendere grazie al mio corpo muta forma oppure anche Liliana se sarebbe disposto a farlo a tre con due Maya in teoria no ha detto di no Maya quanto pare no mi dispiace se fai qualcosa con Liliana non mi dispiace sinceramente sicura se mi dici che non sei tu cioè sei tu ma con il suo aspetto non ci voglio pensare finché posso stare con te mi va bene ok mi sembra mi sembra un po' diciamo che per il momento cercheremo di evitare questa cosa finché non le acque non si saranno calmate un po' di più perché non mi sembri troppo convinte non voglio metterti troppo stress addosso su questa cosa ok oh guardate l'ascensore è quasi arrivato già è il giusto spazio per gli ultimi argomenti di cui volete parlare giusto visto che adesso Apocalisse è finita noi due possiamo cosa adesso in ascensore perché no non abbiamo una stanza no 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 grazie no mi dispiace non sono non sono la nostra amicizia non è così solida da resistere a queste informazioni se volete farlo davanti a me grazie non so che ti ho tirato parecchie frecciatine nelle ultime ore ma non sono esibizionista no se Magnus e Liliana se ne vanno e noi due dobbiamo uscire da questo posto prima sì va bene quanto ama Magnus in freddo non è una idea lui comunque dice no che cacchio per che cacchio devi farlo davanti a altre persone davanti a me e soprattutto e ti sta cercando di dare una condizione nincomane mi sta a più senso esibizioni onestra niente vabbè sta cercando di infilarlo da qualsiasi parte o passo in pubblico è quello anche quello è il caso e qualcuno tiri per Magnus gentilmente ok anche se alla fine della campagna magari la condizione esibizionista te la becca no ma figuriamoci ascoltate non volevo veramente che voi due foste presenti semplicemente non ti darebbe fatica se guardassimo no basta basta va bene beh qualsiasi cosa succeda quando queste porte si apriranno voi ricordatevi che vi voglio bene ok in effetti le porte si aprono e una volta state uscendo dalla città di Eureka e flash forward a domani mattina quando vi risvegliate nelle vostri comodi camere da letto anzi a proposito com'è che erano le vostre case mi ricordo che forse ads come facciamo a svegliarci il giorno dopo a casa nostra che c'erano 8 ore di viaggio scusa i misteri di Eureka lo scoprirete forse dopo ok io vivo in una casa abbandonata ok però è lo stesso letto su cui hai dormito per i scorsi probabilmente 3 anni non so se sei arrivato in questa città da meno di 3 anni o più di 3 anni in realtà vivo qui da abbastanza tempo che nessuno fa caso al fatto che io ci sia quindi direi 4-5 anni ok quindi è lo stesso letto che lo stesso comodo letto che hai già da molto tempo non so se poi hai arredato un po' casa tua tipo con delle foto dei tuoi amici qualche cosa personale siamo nel digitale le foto non si stampano più ok quindi ti riveli in una casa che pur essendo tu pur sentendo tua manca un po' della tua personalità mentre invece mia com'è che è casa tua mia maia scusa come è casa tua è una casa americana non ha il cancello ha una bandiera quindi vieni svegliata la mattina tipo da tua madre che ti dice che le frittelle sono pronte venire giù a mangiare il bacon con le uova no una cheerleader no posso mangiare lo stesso sì classico non sono orfano per una volta ok quindi c'è tua madre che bussa la tua camera e viene a sussurrarti in orecchio tesoro alzati è l'ora di andare a scuola fai che farai tardi se no ti ho già preparato la colazione come tutte le mattine sì mentre invece Liliana casa tua com'è e come di solito vieni svegliata io non vengo più svegliata ho la sveglia perché sono tutti scomparsi quindi è la tipica casa stregata però ok è tipo un maggior domofantasma o qualcuno credo no giusto per curiosità quindi ti svegli nella tua magione infestata con la tua sveglia del cellulare immagino e e aprite la finestra comunque vi guardate intorno per capire quando cazzo siete arrivati a casa dov'è casa vostra e aprendo la finestra vedete una città che pur essendo familiare non riconoscete del tutto ci sono edifici che vi sembrano strani la città sembra molto più grossa il cielo anche sembra molto più grigio pieno di smog maia tra l'altro scende giù dalle scale e ci chiede un attimo a sua madre che cosa sta succedendo dove cavolo si trovano perché la loro città è così la sua madre gli dice Cina ti chiamati Cina tua madre tesoro ti dice tesoro di che cosa stai parlando questa è sempre la stessa città in cui sei nata tu questa qui è Eureka la città dei mostri la città dove si è sempre vissuti e anche voi due vi accorgete di questa cosa infatti quando uscete da casa vostra c'è sul vostro uscio di casa il quotidiano molto maricano che lanciano alle porte il giornale che ho scritto proprio il giornale di Eureka la città dei mosri e c'è la data di domani in teoria quindi what the fuck cosa è successo al mondo mentre voi eravate addormentati mentre eravate nell'apocalizze io ho scritto quello che pensavo stesse accadendo nel chat di Discord però forse non era quello si lo sa questo volevo farlo come cliffhanger finale in caso in futuro vi interessasse fare una seconda stagione di questa campagna non lo so onestamente cercare di interpretare un personaggio poliamoroso è stato terrificante dai il mio primo personaggio che ho fatto è stato poliamoroso è stato terrificante ti ricordi com'è andata e va bene non me ne ero dimenticato del tutto però l'avevo lasciato un pochettino da parte spero che vi abbia interessato questa campagna vi abbia tenuto comunque un po' colpiatto sul collo e Nicola se può parlare visto che c'è il tuo rumore di fondo parlo grazie e niente volete farmi qualche domanda qualcosa che forse non si era troppo capito sì io stavo pensato alle domande mi avevo anche diventato adesso cos'era Christopher Christopher era aspettivamente un elementale ma in realtà tutti i vostri compagni di classe avevano una seconda pelle nel senso che in teoria il nemico di tutta la campagna sarebbe stato Albert qual era lo scopo di Albert? Albert era un simulacro effettivamente era un'intelligenza artificiale che voleva rinchiudere tutti i mostri in modo tale da storbire i vostri poteri quindi in base alle pelli che voi avreste scelto come giocatori gli NPC avrebbero cambiato la loro pelle come pelle secondaria in modo tale da avere una gamba di mostri tutta diversa perché infatti voi tutti vi trovevate qua proprio a causa del fatto che Albert voleva che vi trovaste qua Christopher effettivamente all'inizio era un titano l'ho trasformato poi in elementale quando Maya ha preso la pelle del titano e in teoria mi immaginavo quando ho fatto Albert come nemico mi immaginavo che la sessione sarebbe non la sessione la campagna sarebbe andata in maniera diversa mi immaginavo che dovesse durare un'intera settimana durante la quale Albert faceva sparire pian pianino alcuni compagni e pian pianino quindi mettevate insieme gli indizi della sparizione numero 1 2 3 per riuscire a coviprire che era Albert il nemico poi però mi sono reso conto molto velocemente che in realtà le domande cioè quando fate cevate successi e che davate spudoratamente cioè direttamente chi è che era che stava tirando le file tutto non potevo troppo rigirarci intorno o vi davo un nome o gli indizi che vi potevo dare erano un po' limitati sì e inoltre il problema di quella cosa è stata anche intrappolarci dentro all'albergo perché se avessimo voluto andare in giro se avessimo voluto andare in giro probabilmente avremmo perso più tempo a bloccati di dentro avevamo soltanto due obiettivi capire chi era il killer e uscire di lì esatto questi due obiettivi semplicemente nella mia testa sarebbero dovuti durare più a lungo ma mi è piaciuto anche così molto più veloce in teoria sì anche perché non sarebbe mai stata una b-shot in ogni caso domanda perché Vangerine non mi ha lasciato la stanza alla fine perché questo è in teoria legato al seconda stagione in teoria Evangerine sapeva quello che vi sarebbe successo infatti è per questo che va detto quando vi risvegliate domani mattina lei ha visto quello che è stato che è successo fuori e quindi ha detto se avete bisogno venite a trovarmi sempre che ci sarà ancora e potrà aiutarvi forse lo farà altre cose sui personaggi che non sono saltate molto fuori era il fatto che c'era un un segreto di un personaggio che in realtà era un po' minimo ma era un po' tipo il segreto di Davet e Adele l'avevo messo in giro giusto per depistarvi un po' per farvi fare roba e che era sulla professorezza Michelle la professorezza Michelle infatti era un cuculo il cui scopo di venire in questa scuola e tutto era effettivamente arrivare alla città di Eureka per cercare di rubare il tesseratto lei era stata mandata dal governo di un altro paese infatti è la professoressa che è arrivata poco prima di Albert nella vostra scuola e lei avrebbe dovuto rubare la fonte di energia illimitata che c'era nella città di Eureka buffo comunque che la prima cosa che io abbia cercato di fare in quanto mutaforma è stata cercare di copiare un altro mutaforma no in realtà ci sono state molte coincidenze che quando sono successi ho detto ma aspetta forse loro hanno letto un attimo la mia trama perché tipo quando c'è stato Nicola che ha preso esattamente la collana di Leona ho detto what the fuck tra l'altro quando hanno iniziato la madonna tipo tu quando ti sei trasformato in Davet ho detto what the fuck poi tra l'altro quando è morto Richard e poi quando è stato scomperato il professor Davet io davvero sospettavo che Nicola fosse il killer perché quella notte non sapevamo dove fosse è vero è vero però vi posso dire che nessuno di voi mi ha scritto per diventare il killer quindi ho voluto mantenere un po' alimentata questa cosa perché secondo me era comunque divertente però non c'è stato niente alla fine giusto Adele che pelle è? Adele era semplicemente un essere umano lei lavorava già lì in teoria gli altri vostri compagni erano altre pelli Richard era effettivamente un vampiro e Marid in teoria sarebbe dovuto essere un Chosen di cui Richard sarebbe dovuto essere il nemico finale poi in realtà è rimasto sempre un pochettino Chosen Vendor è un mezzo sangue è un mezzo sangue tra i due no non sape neanche è un Vendor che ha preso le mosse del Chosen anche e niente lui era semplicemente molto arrabbiato con Richard no in realtà in generale con i mostri effettivamente aveva messo alla prova quella sera Richard dandogli la collana in argento di Deleona lanciandola quando ha visto Richard bruciare bruciare la mano lui non ci ha visto più dalla rabbia era semplicemente ammazzato l'ha riconosciuto come un vampiro e questo fa parte del background di Marid i vampiri lui e la sua famiglia i vampiri sono è vero Nemesis è una cosa che ho dato all'Enezar perché tecnicamente i Chosen hanno Nemesis dal passato ma il Venator ha la mossa che si chiama Nemesis che non vanno confuse tra di loro perché una è una cosa del passato e l'altra ti dà dei bonus per affrontare un tipo di mostro comunque in generale anche per gli altri personaggi entrambi avevano una pelle doppia tipo Tabitha avete detto anche voi dicevate forse un fantasma forse un ghoul in realtà erano entrambi avrei scelto in base a quello che avreste scelto voi se non mi sbaglio avevo detto che era un fantasma poi in questa cosa in questa ipotesi qua il finale che avete scelto poi tra l'altro anche se magari va lasciato un pochettino delusi il fatto di avere un finale così aperto ma era effettivamente il finale migliore che avevo previsto in realtà il finale migliore che avevo previsto era quello in cui anche Marid sopravviveva perché Marid è un personaggio abbastanza importante nel senso che comunque lui anche se è un venador è comunque un protagonista c'è un attivi però anche se è un venditor è comunque un protagonista quindi lui è effettivamente la plot armor quindi voi gli avreste potuto fare quel cacchio che gli potevate ma comunque lui sarebbe sopravvissuto a tutto infatti c'era anche un easter egg che naturalmente non sarebbe stato praticamente potibile sbloccare ma se uno di voi tipo si fosse cercato di suicidare durante l'arrivo qua in Pullman lui sarebbe intervenuto fermando tipo il Pullman prendendo il Pullman al vostro posto e sopravvivendo senza problemi perché lui ha la plot armor lui ha la trama immortale ed è anche per questo che Albert lo considerava il nemico peggiore quindi in teoria l'unico finale leggermente migliore che avevate era avvicinare Marid non confrontandolo alla battaglia finale ma quindi scoprire un po' prima che lui era un un cacciatore di mostri cioè in realtà scoprire che lui era un cacciatore di mostri senza mostrarvi i mostri voi stessi in modo tale che poi avreste potuto parlarci invece ci siamo arrivati troppo tardi per vedere tutti i dettagli in realtà ve lo ripeto questo qui era il finale comunque uno dei migliori il finale peggiore in assoluto secondo me era quello di Tabitha che si uccideva al vostro posto perché avevo previsto se gli androidi avevo detto se gli androidi sono troppo forti faccio tipo spawnare Tabitha tipo fantasma quindi semplicemente appare vicino alla spina la stacca e la riattacca però sarebbe tipo morta nell'esplosione cercando di attaccare direttamente la spina subito così velocemente quindi sì in realtà c'erano finali ben peggiori finale in cui moriva un sacco di gente o cose del genere ma abbiamo tirato bene fino alla fine sì l'ho allungato ancora un po' addirittura perché avete fatto i primi 5 tiri che erano perfetti e non prevedevo che tipo in 5 tiri soltanto riusciresti ad arrivare già alla presa quindi ho detto cazzo adesso la staccano ed è finita cioè non c'era più altro ci hai fatto fare 5 giri soltanto per afferrare una presa staccarla e riattaccarla nel frattempo cosa è morto quindi eh non avevo ancora fatto in tempo a fare la rivelazione di Albert ho detto non c'aveva un finale presente in cui Albert non si rivela come cattivo finale ah sì io ho detto cosa fanno poi uccidono tutti i mostri e Albert cosa fa non bene comunque quindi ci sentiamo settimana prossima per finalmente continuare Breath and Glory però non sarà molto costante perché appunto adesso iniziamo di nuovo un periodo in cui alcuni di noi a settimana interna potrebbero non esserci quindi cerchiamo quanto meno di fare quella io prometto che sarà una singola sessione non prometto che riusciremo a fare subito l'ascensione in grado 2 l'ascensione tra l'altro dobbiamo discutere se farla offline o registrandola però vabbè quello ci penseremo poi vedremo un attimo anche con i tempi che abbiamo sì e appunto continuiamo quindi Breath and Glory non ve l'ora ritornare io forse mi preferirei di farla offline in realtà l'ascensione anch'io quasi e dopo quella appunto tra 2-3 mesi quando finirà Breath and Glory torneremo ancora su questo gioco in cui mastererò io Ashen Stars con te Zippo si spera Fabio Scala e ad alternanza Emma che oggi non c'è ci sarà anche Fabio sì gliel'avevo promesso ti avevo detto ha comprato il manuale e ha iniziato a giocarlo di recente e a masterarlo anche a voi ok ha già scelto la pelle che farà? non ha scelto la pelle però ha scelto di fare la specializzazione e tutto fare ok 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 sì non mi ho messo fretta perché è una cosa che accadrà tra mesi ovviamente e al momento è occupato con i cazzi suoi bene buonanotte a tutti notte a tutti ciao 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 anche a Francesca l'amica di Università di Penati hai sbagliato il nome non era Francesco grazie a tutti